La seduta del Consiglio Comunale, nomino scrutatori, consigliere Walter Manzon, consigliere Orso la Chiaradia e Riccardo Piccinato. Risultano assenti i consiglieri Vito Palmisano e Emanuele Loperfido. Arriveranno in ritardo il consigliere Giulia Bevilacqua, Calogero Lopipero e Fausto Tomasello. Comunico che essensi l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico le decisioni della conferenza dei presenti dei gruppi consigliari per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Allora si inizierà ad esaminare le interrogazioni per un'ora, dopodiché verranno esaminate tutte le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno fino al loro completo esaurimento. Se l'esaurimento dovesse avvenire prima delle 22.30 si proseguirà poi con le mozioni secondo l'ordine indicato nell'ordine dei lavori fino alle 22.30. non ci sono posizioni, chiedo al signor sindaco se ci sono comunicazioni. Prego, do la parola al signor sindaco per le comunicazioni. Signore buonasera, prima di cominciare i nostri lavori ritengo indispensabile aggiornarvi sul tema dell'arrivo degli immigrati nel nostro territorio, nella nostra regione e nel nostro territorio in particolare. Allora possiamo cominciare dall'ultimo episodio o invece cercare di avere un quadro complessivo di quello che sta succedendo. Il quadro complessivo ve lo dico con i numeri. Le persone attualmente presenti nella nostra provincia risultano essere otto a Daviano, tre a San Vito, 35 a Pordenone alla Locanda al Sole, 7 sempre a Pordenone a casa San Giuseppe, è una delle strutture convenzionate con la Caritas, poi vi illustro anche lo schema con cui queste cose vengono fatte. 26 sempre a Pordenone alla casa della Madonna Pellegrina. Alla fine un'ottantina di persone in tutto a cui dovete aggiungere e su quello poi mi soffermerò le 30, anzi 29 che sono arrivate in città esattamente venerdì scorso alle ore, in realtà era sabato mattina alle ore 2 del mattino. Allora con la Prefettura la discussione su come gestire questa emergenza, l'avete letto ma non è solamente un'emergenza del nostro territorio, è in corso da tempo. La nostra pressione del nostro ambito in particolare, perché alla fine chi è stato coinvolto dal punto di vista organizzativo sono stati gli ambiti, è stato quello di convincere la Prefettura che questo doveva essere visto non in una prospettiva di emergenze continue, cioè ogni settimana forse arrivano, sono arrivati, non sappiamo di che nazionalità, ma di cercare di, visto che questi arrivi continueranno durante l'estate e l'avete capito, hanno una consistenza di un flusso che certo non si spegnerà, visto l'impegno del nostro Paese, di alla fine creare a livello di creare un vero e proprio sistema nella nostra provincia che vedesse ciascuno degli ambiti prendersi in carico, non attenzione all'assistenza diretta, ma aiutare la Prefettura attraverso un ente gestore che è stato individuato nella Caritas a far sì che venissero individuate non delle strutture grandi ma delle strutture piccole dove inserire queste persone. Il motivo è averne quindi una certa dispersione in provincia e non gruppi troppo numerosi, avere la possibilità di avere una gestione molto più semplice, perché si tratta di gruppi quindi piccoli in cui tutti gli aspetti anche culturali di cibo eccetera possono essere risolte molto meglio e i convolgendo direttamente le stesse persone e alla fine far sì che il tutto non gravi solamente su Pordenone città. Questo è lo schema su cui alla fine un accordo è stato raggiunto e insisto il vero carico è comunque sulle spalle della Prefettura e dell'ente gestore quindi della Caritas. Arriviamo all'episodio di sabato e domenica perché secondo me è particolarmente illustrativo. È illustrativo per questo motivo uno le modalità con cui l'arrivo di queste persone è stato comunicato alla nostra Prefettura che poi ovviamente ci dà queste informazioni. Diciamo che sei saputo dell'arrivo di queste 90 persone in regione di cui 30 Pordenone, 30 Udine e 30 Trieste è quattro ore prima del loro arrivo. Le indicazioni erano che sarebbero state persone provenienti dal Centro Africa, Centro Africa, quindi insomma tanto per dare un minimo di coordinate. La verità è quando questi 29 persone sono arrivate in quel di Pordenone e ospitate alla casa della fanciulla in via Poffabbro. Le persone erano in realtà provenienti dalla Siria, erano nuclei familiari, 11 bambini e il resto insomma diviso tra donne e uomini. Quindi caratteristiche completamente diverse, che a me sono in poca difficoltà la Caritas per un semplice motivo, anche linguistico. Voi capite che un mediatore culturale in momenti come questo risulta essere, diremo, utile, se non indispensabile. Anche se un po' d'inglese queste persone lo parlavano. Alla fine, quindi, queste persone sono arrivate, io le ho viste, le ho incontrate più volte durante il weekend, è chiaro che abbiamo avuto un aiuto non marginale da parte del centro islamico, in particolare dai ragazzi più giovani come la figlia dell'Iman, per un semplice motivo, che parlano arabo, quindi ci hanno aiutato nei momenti più delicati come c'era una persona che aveva necessità di andare in ospedale. Quindi insomma ci sono stati niente di particolare, ma insomma cose che devono essere seguite con un minimo di cura. E alla fine, quindi, loro hanno manifestato chiaramente che non erano i più disperati della terra dal punto di vista, sono delle persone che hanno avuto dei problemi di tipo politico, venivano dalla zona vicino a Damasco, ma avevano altresì ben presente il loro target, visto che tutti avevano, non a caso si erano portati dietro moglie e figli, avevano dei riferimenti in altri paesi europei. Quindi nel momento in cui, dopo aver capito, non è ironia, aver capito geograficamente dove veramente fossero, in Europa, dove era Pordenone, dove erano uno e dove era Pordenone, hanno capito quali potevano essere le modalità con cui gestire il fatto di attuare i loro piani. Allora, tenete presente che lo status giuridico di queste persone, adesso senza addentrarsi in una cosa che io avrei difficoltà a raccontarvi in tutti i dettagli, esiste una convenzione che si di Dublino che riguarda la segnalazione e la fotosegnalazione delle persone che entrano nella comunità europea. Cosa vuol dire? Nel momento in cui questa persona viene fotosegnalata, anche se la persona andasse in un altro paese a chiedere asilo politico, per effetto del paese che ha iniziato questa fotosegnalazione e quindi ha iniziato il processo, la persona viene rimandata al paese in cui la fotosegnalazione è stata iniziata. Allora, la fotosegnalazione esige una serie di procedure che tra sabato e domenica, certo, la nostra polizia non ha nemmeno iniziato, ma comunque ha dei tempi. Normalmente l'attitudine di queste persone è di voler fare questa fotosegnalazione nel paese, se hanno già un paese di destinazione, nel paese in cui alla fine vogliono essere ospitati, ovviamente, perché se hanno pareti, nel loro caso sorella, i cognati, eccetera, tra Danimarca, Germania e Belgio, è chiaro che a loro interessa che questo iter di, tra virgolette, accettazione e di asilo politico successivo, fotosegnalazione vuol dire che poi normalmente viene chiesto asilo politico, inizi nel paese in cui poi loro si vogliono fermare. Altrimenti la procedura diventa complicatissima in Italia perché la normativa non è chiarissima, quindi resta un limbo difficile da gestire. Negli altri paesi, anche se sono evidentemente molto precisi nell'applicazione di queste cose, però da quel momento in poi i diritti sono abbastanza chiari e la gestione e la presa in carico di queste persone anche. Quindi queste 29 persone, nel momento in cui hanno capito, hanno preso le coordinate, se ne sono andate, semplicemente lunedì mattina. Se ne sono andate perché dal punto di vista giuridico non è che siano persone arrestate, intendo dire. Noi li abbiamo, vi ricordo che secondo alcuni a Roma, loro hanno uno status di naufrago perché li abbiamo presi noi in mare. Adesso questo è dibattuto, però per farvi capire anche così un po' la difficoltà a volte di interpretazione delle cose da fare. La mia considerazione, ho due considerazioni finali. Io penso che noi come città alla fine abbiamo fatto il nostro dovere civile, e lo stiamo facendo fino in fondo. Non siamo coinvolti di rimbalzo, ma insomma voi capite che senza la nostra conoscenza del territorio, delle persone che aiutano in determinate situazioni, è quasi impossibile fare qualcosa. Quindi noi risultiamo determinanti sia verso la Caritas che verso la Prefettura. Devo sottolineare, come ho avuto occasione di dire varie volte, sollecitato dai giornalisti, che secondo me il modo in cui il tutto è gestito è di una precarietà, di una mancanza di fondamenti elementari, insomma di gestione non di pacchi, ma di persone, dalla loro arrivo, dalla loro presa in carico sulle navi, a noi che non può che essere sottolineato in negativo. Io capisco che lo slancio di solidarietà, che è assolutamente giusto, e penso che tutti noi lo condividiamo, ma il fatto che dietro ci debba essere un'organizzazione solida e dettagliata di queste cose, è altresì vero. Perché se noi riceviamo con quattro ore di anticipo l'arrivo di un gruppo di persone X che non conosciamo, è molto difficile per noi l'organizzazione, anche per cose minime, piccoli problemi sanitari. Avevo un piede slogato, voglio dire. Queste cose non sono poi così facili da gestire. Quindi la mia conclusione è come territorio, come provincia, alla fine la solidarietà e l'idea di gestire queste cose in modo diffuso credo che sia vincente. Abbiamo sottolineato attraverso la Prefettura stessa che la precarietà del modo in cui questa cosa è gestita deve, visto che sarà sistematica, trovare un chiarimento a livello governativo che renderebbe, ma non solo per noi, ma per tutti, difficilissima la gestione di queste cose. Non ci sottrarremo, l'avete capito. Meglio sgomberare il campo delle leggende metropolitane e dei milioni, eccetera. Vengono date per a cranio 30 euro al giorno, di cui 27,50, lo ribadisco per tutti, 27,50 vengono date per l'arbergaggio, l'assistenza, una serie di attività che servono ad aiutare queste persone anche da un punto di vista linguistico, a svolgere cose di tipo burocratico e il rimanente, fino a 30, viene dato direttamente alle persone, IVA comprese, più IVA, scusate, più IVA. Quindi, per ciascuno, l'ente gestore, che in questo caso è la Caritas, ha questo piccolo, questi 27,50 euro da gestire, con cui deve far fronte ad una serie di esigenze che, insomma, vedendo anche il numero, le persone, per quanto le strutture siano snelle, insomma, bisogna fare nel giusto modo. Vi terrò regolarmente informati di questa vicenda, indubbiamente sarà, dal punto di vista mediatico, un tema costante durante la nostra estate. Credo che, soprattutto qui, in questa parte della Regione, il modo in cui i vari ambiti, i vari comuni, i vari sindaci abbiano trovato, diciamo, questa formula di equilibrio di tipo sistemico, ci faccia semplicemente onore. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Bene. Ricordo che c'è, allora, la possibilità di un intervento per gruppo di 5 minuti. Consigliere Pedicini, prego. Grazie, Presidente. No, volevo, nel sottolineare, positivamente l'approccio che lei, signor Sindaco, sta dando al problema, così come ce l'ha illustrato, e mi sembra una posizione, questa dell'amministrazione comunale, anche corretta nell'affrontare un'emergenza come questa. Non posso, però, esimermi, anche da parte mia, sottolineare la mancanza da parte dello Stato italiano ma non nell'affrontare, di una strategia nell'affrontare tutto il problema. Il problema, vede, sarebbe molto più semplice, piuttosto che intervenire, ma non lo dico, io l'hanno già detto anche altri, organizzare delle navi traghetto e andarli a prendere direttamente sulla costa, anche perché li prendiamo appena fuori in mare, con tutto il rischio che c'è per le vite umane. Se le nostre navi attraccassero ai porti del Nord Africa, e visto che l'asilo politico è obbligatorio per chi viene da uno Stato di guerra come è stato anche sancito dall'ONU, si può tranquillamente, come si chiama, fare quest'opera di assistenza partendo direttamente da lì. Invece noi lo facciamo con un dispendio di energie enormi, con un carico per le amministrazioni della Sicilia e del resto d'Italia, ma particolarmente della Sicilia, e ci troviamo in una situazione a livello nazionale che non ci fa certamente onore. Siamo gli unici, e diciamo che vogliamo salvare delle vite umane, ma sappiamo benissimo che sapendo che appena sono fuori dalle acque, addirittura nelle acque territoriali, perché alcuni interventi sono stati fatti a sud e di Malta, quindi addirittura al margine proprio delle acque territoriali dei paesi del Nord Africa, sanno benissimo chi tratta, perché queste persone pagano per essere trasportate, oggi i nuovi negrieri di questa situazione oggi lo sanno benissimo, sa benissimo che appena escono dalle acque territoriali sono loro stessi a chiamare i soccorsi perché questi siano raccolti in mare e abbandonano in mare queste imbarcazioni stracolme di persone. Allora, da un punto di vista noi facciamo un'opera umanitaria perché cerchiamo di non far un danno a queste persone, dall'altro, incoraggiamo, con questo nostro atteggiamento, incoraggiamo evidentemente la tratta di esseri umani, perché li invogliamo chi organizza e specula su questo a organizzare tanto vi vengono a prendere. Invece noi dovremmo fare, risolvere a monte il problema, recarci sulle spiagge, sulle coste, sui porti del Nord Africa e dire bene, chi ha diritto all'asilo politico si accomodi e chi non ha diritto all'asilo politico tanto per le leggi internazionali deve essere poi rimandato a casa. Allora, il problema sarebbe molto più semplice, a parte che tutto ciò che è successo nei paesi del Nord Africa ci porta a questo. Quindi, ma questo ce lo diciamo qui in un Consiglio Comunale, ho detto solo un'opinione, non vale niente, non serve a niente, il problema è che quando la Prefettura la chiama per dirgli che ci sono questi immigrati da sistemare, lei deve intervenire e trovare la soluzione. Mi sembra che la soluzione e l'approccio che lei stia dando sia positivo, fermo restando che tutto l'insieme del problema nazionale e che continuerà ad aumentare specialmente nel periodo estivo continuerà ad aumentare, non fa certo fare all'Italia intera una bella figura. Nasconderci dietro questa forma di salvataggio in mare non produce assolutamente niente perché poi alla fine sapete che sono quantorplicati i numeri di questa cosa. Quindi, rimanendo a noi, certo, una volta arrivati sul suolo nazionale bisogna trovare una sistemazione, dobbiamo sistemarli, certo, non possiamo pretendere che l'assistenza sia gratuita perché questi devono essere assistiti, mantenuti, costano meno dei 30 euro se lo fa lo Stato nelle strutture che si era prefisso poi bisogna vedere anche come sono andate a finire e questo tipo di situazione è una situazione che anche mi fa piacere che lei ce ne informi anche durante l'estate, io so che oggi è l'ultimo consiglio comunale quindi ci rivedremo a settembre, però via email potremmo avere no, non è sicuro? Va bene, allora ci farete sapere se ce ne saranno altri ci rivedremo se no sempre via email potremmo essere informati anche se siamo in vacanza anche nel mese di acqua grazie di tutto Grazie consigliere consigliere Piccinato prego Grazie Presidente ma io trovo che questa vicenda sia assolutamente qualcosa che dal mio punto di vista è vergognoso perché qua il sindaco ha parlato di strategia vincente e non ho capito che cos'è che si è vinto perché la situazione è peggiorata da tutti i punti di vista tutti i cittadini pagano di più per questo il problema dei migranti non si è risolto ma si è aggravato i cittadini locali pordenonesi italiani in generale rischiano ogni giorno di più la propria salute perché con il rischio dell'aggravarsi della malaria della tubercolosi dell'ebola e chissà quant'altre malattie la sifilide e altre questioni allora il discorso è che non c'è un solo punto di vista in cui con questa con questo modo di agire si stia portando un risultato forse qualcuno si fa si fa bello agli occhi di qualche organizzazione politica perché da un lato si dice accogliente mentre dall'altro c'è una partita dove ci sono persone che guadagnano con l'accoglimento degli immigrati allora bisogna dirlo ci sono calati i morti in mare con questo tipo di operazione la realtà è che i fatti dicono di no si è aggravato anzi addirittura lo Stato aiuta a far guadagnare di più gli scafisti perché gli dimezza il tragitto da fare questa è la realtà così risparmiano anche la benzina la fatica di farla attraversata guadagnano ancora di più e poi dov'è l'emergenza perché è stabile ormai il problema non è un'emergenza ci sono 5 miliardi di persone pensiamo di accoglierli veramente tutti siamo così intelligenti da dire li accogliamo tutti sindaco di all'esempio se ne porti a casa qualcuno ecco se li porti dentro casa di fronte perché di fronte è un'altra cosa benissimo bene certamente no non lo farò esattamente esattamente perché io ne ho ancora qualcuno riguardo ottima invece l'organizzazione unica cosa che insomma la dispersione può ancora diffondere di più questo tipo di malattie quindi anche qui molto molto acuta per il resto anche bene per quanto riguarda il controllo di chi entra perché abbiamo appena visto come si sia ricostruito il califato dell'islam in mezzo all'Africa e non sappiamo chi entra non sappiamo che intenzioni ha e addirittura queste persone si dileguano dopo un po' di tempo quindi anche questo ringraziamo sempre i signori del PD tutti coloro che hanno votato per eliminare il reato di immigrazione clandestina ringraziamo per avere tutto questo e ringraziamo anche per il grande Renzi che ha ha avuto un grandissimo risultato a livello europeo e l'Europa ha detto il problema è solo italiano quindi complimenti più Europa continuiamo così più immigrati più spese più ebola grazie grazie consigliere manzon no scusate manzon grazie vedo anche delle mosse tattiche del consigliere ribetti che si sposta sì sì ma scusate ho letto quello che ho detto no vabbè consigliere consigliere ribetti vado a fare la telefonata non ce ne soppruttano sì ma discutiamo su chi parla per primo consigliere ribetti vado a telefonare nessun problema per cortesia per cortesia va bene facciamo 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 parlare con consigliere manzon silenzio silenzio allora consigliere manzon il tempo scorre e lei faccia la ringrazio ecco sì prego allora niente silenzio silenzio allora senz'altro la questione così come è stata affrontata io ritengo che sia stata affrontata con tutti i crismi dell'attenzione verso in particolare come veniva esposto prima i gruppi familiari questa è una cosa direi nuova rispetto agli standard che si sono presentati quindi l'attenzione in più è dovuta anche a questo fatto e io ritengo sia giusta al di là del fatto di considerare ecco le persone che transitano in questo caso attraverso l'Italia come cose ecco noi sappiamo che in effetti ci sono altre forme ecco di attenzione ricordo però anche che l'azione che l'Italia e l'Europa dovrebbe esplicare io penso in questo caso più che mai ecco perché trattandosi di profughi politici siriani il problema è serio cioè io mi chiederei a livello europeo a livello italiano quanto noi stiamo facendo per risolvere la crisi siriana la crisi siriana è una delle crisi più vive in questo momento all'interno dell'area mediterranea della quale si parla sempre secondo me troppo poco e che continua a mettere vittime proprio nel paese di origine quindi tutta l'attenzione che noi dovremo per evitare appunto questi sbarchi quindi per far sì che intere famiglie si muovano alla ricerca di nuove stabilità dovrebbe essere concentrata sul fatto di limitare tutte quelle tensioni che nell'area mediterranea adesso sono veramente frequenti quindi l'impegno vero andrebbe in quella direzione lì allora un paese attento a quel che succede intorno a sé fa di tutto per mantenere poi i profughi i profughi potenziali nel loro paese quindi io spegnerei ecco in questo caso concentrerei un po' di attenzione sul fatto che l'attenzione deve essere questa l'attenzione diplomatica per quello che succede attorno a noi e questo è anche comprensivo di quello che sta succedendo in Iraq l'attenzione ecco va posta in tutte le parti io ritengo che quindi una politica volta a guardare con attenzione solamente alla propria regione e al proprio mondo anche politico se sia un'attenzione sbagliata perché non fa capire quello che succede intorno tutta l'attenzione per chi arriva e per chi va curato ecco nella sua profonda ecco volontà di sopravvivere io penso che debba rimanere è chiaro che quando si interviene quando ci si mette mano a queste situazioni non sappiamo bene noi italiani sbaglia sempre qualcosa e quindi io non mi preoccupo di quello che sbaglio ma mi preoccupo solamente di far sì che l'azione poi porti a dei risultati concreti in questo caso il fatto che le famiglie poi siano state ridirezionate e abbiano la possibilità di tutte insieme raggiungere un porto ecco all'interno del quale puoi salvarsi io penso sia una notevole azione sia una notevole azione nel suo piccolo però attenta e con tutti i vizi burocratici le difficoltà che abbiamo in Italia sia un'azione meritoria quindi per questo ringrazio poi l'azione dell'amministrazione comunale grazie consigliere De Bortoli prego Presidente Sindaco Giunta e consiglieri colleghi volevo fare un intervento con tre punti brevissimamente intanto raccontare essere solidale col sindaco quando dice la precarietà la gestione di questo fatto che è un fatto grandissimo penso che non debba avere ironia in questa sala perché è una cosa importante quella che stiamo parlando però va anche detto un po' il nostro governo e l'Europa in modo particolare come si comportano perché io parlo per vissuto sulla mia pelle cioè non dobbiamo dimenticare che nel 70 si sono arrivati 45 mili italiani dalla Libia con passaporto italiano scritto cittadinanza italiana sono stati messi in una caserma dismessa o caserme dismesse per gli Alpini a Garniano e altri posti con un posto di pulizia e con un presidio sanitario all'interno perché dicevano che avevamo i pidocchi e dunque avevamo 40 giorni chiusi con permessi speciali per uscire dalla caserma questo è successo agli italiani quando siamo rinvenuti nel 70 e arriviamo dalla Libia non arriviamo chissà da quale paese sì dunque questo per dire cosa che proprio collegandomi a quello che diceva il sindaco questa faccenda vengono dal nord Africa poi invece sono dalla Siria magari poi sono dalla Tunisia cioè questa precarietà non ci mette in sicurezza perché è anche bello sapere come quando andiamo a fare le ferie e ci fanno fare una serie di vaccinazioni obbligatorie è anche bello sapere quando arrivano questi qua da dove arrivano e cosa c'è in quel paese perché i cittadini italiani dovrebbero essere messi in sicurezza dunque bando all'ironia su questo fatto qua l'Africa ha problemi seri anche sanitari e dunque non vorremmo che magari si divulgassero proprio con questa come si dice l'italiano brava gente che accoglie tutti e ci riportiamo magari in casa e poi ci portiamo delle infezioni o delle cose che poi vanno debellate ma ci rimettiamo anche qualcosa per strada dunque su questo io sono d'accordo su qualche intervento fatto che questo consiglio comunale a mio avviso dovrebbe fare un bellissimo presidente mi rivolgo a lei ordine del giorno come si faceva nei temi passati mandare al nostro presidente del consiglio dicendo amico mio visto che hai questa tua presidenza europea in questo momento porta questo problema a livello europeo risolverlo perché abbiamo due elementi primo abbiamo visto che questa gente arriva qua disperata e non sa neanche dove arriva sappiamo da dove parte non sappiamo da dove arriva secondo non vuole stare qua vuole andare giustamente perché anch'io volevo notanermi a Napoli ho detto abbiamo tutti i parenti a Portuguraro andiamo in friuli c'era lavoro ci siamo stati anche noi allora anche questi qua noi li riceviamo le riceviamo e dunque e dunque dobbiamo in pratica capire che se hanno voglia o bisogno perché hanno fratelli sorelle perché poi la cooperazione tra familiari è molto più precisa e amata su questo e mandarli nel paese dove hanno queste esigenze evidentemente dunque bisogna cambiare qualcosa a livello nazionale per quanto riguarda la precarietà di ricevimento come diceva il sindaco prima e poi a livello europeo visto che abbiamo un semestre nostro insomma deve essere molto forte e deciso e visto che il presidente del consiglio mi pare che non gli manchi il verbo per parlare direttamente anche con i signori che hanno chiesto le basi per bombardare e uccidere Gheddafi io potrei dire sono contento ma non è così hanno disgregato una zona d'Africa che tutto sommato poteva essere utile all'Italia e adesso vediamo gli svolti l'Italia ha dato le basi al signor Sarkozy che ha fatto quel disastro che abbiamo visto poi lui insieme agli inglesi per altre ragioni che adesso vengono fuori perché poi le ragioni vengono fuori vere di questa cosa qua di politica internazionale evidentemente per cui io mi trovo con lei il presidente se vuole fare un ordine del giorno per darci al prossimo consiglio comunale da mandare a Roma al nostro governo se penso che tutti i gruppi consigliari potrebbero essere d'accordo di dire insomma che questa questa espressione che ha avuto il nostro sindaco che il comune di Pordenone affronta con grande responsabilità e capacità questi eventi vada segnalato evidentemente ai nostri governanti centrali che poi si ripropongono poi a livello europeo quello che il sindaco giustamente ha detto cioè non possiamo affrontare famiglie in quattro ore pensando che arrivano da un posto poi arrivano da un altro poi non vogliono fermarsi vogliono andare ma se gli facciamo la foto cioè l'elevamento non possono più andare perché rimangono a carico queste cose devono finire cioè è l'Europa che riceve anche se vengono sulla sponda italiana è l'Europa che riceve poi questa insicurezza sta facendo veramente arricchire gli scafisti perché perché nel momento in cui voi pensate solo sulle banchine di quei porti se si dice ah c'è ancora tre giorni per poter emigrare perché altrimenti poi ci chiudono le frontiere e non ricevono più nessuno io alzo il prezzo della traversata cioè è un fatto commerciale questo evidentemente perché quelli che hanno messo anche sotto nelle stanze dei motori che poi sono morti di asfisia evidentemente perché 30-60 persone in più valevano una cifra economica e siccome non gli ultimi questi hanno anche citato di andare lì sotto per venire in Italia ecco per cui chiudo dicendo che sono contento e d'accordo con il sindaco nella sua azione qui nel territorio che ci rappresenta a tutti su quello che sta facendo e soprattutto sono contento perché lo ha espresso in disaccordo con il livello centrale di come si fanno queste cose non soltanto col governo ma anche tutte le altre organizzazioni che si lavano e fanno convegni eccetera sul fatto umanitario dunque bene signor sindaco con lei presidente mi aspetto veramente che a nome del gruppo del consiglio comunale tutto di Pordenone per fare un ordine del giorno da mandare al presidente del consiglio Matteo Renzi che poi potrebbe portarlo oltre che in Parlamento italiano anche a livello europeo per sollevare questo problema organizzativo cioè come gestire questo fenomeno che sono d'accordo non si esorisce domani anche perché potrebbero entrare in guerra altri paesi dunque la situazione iraq è instabile dunque prepariamoci grazie grazie consigliere De Borto consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente abbiamo io ho già detto parte di quello che penso sull'argomento in una mia interrogazione di poco tempo fa e quindi vorrei ribadire e lasciarlo agli atti però anche integrare un po' di quello che era stato detto in quella sede io francamente sindaco sono sono convinto sono combattuto chiedo scusa tra due sentimenti da una parte quello di contentezza gioia diciamo così quando si va ad aiutare qualcuno si salvano delle vite credo credo che tutti noi nessuno nessuno escluso neanche la parte più estrema che magari lo dice in maniera diversa e con toni un po' diversi però credo 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 che nessuno non possa non essere contento quando si va a prestare soccorso e si aiuta qualcuno e si dà un esempio di civiltà e un esempio di dare valore alla vita questo sono d'accordo però al tempo stesso io credo che noi continuando con questo atteggiamento continuando con quell'operazione che viene chiamata Mare Nostrum che continuando con tutto un insieme di errori in un certo qual senso siamo anche complici delle morti che avvengono in acqua e vado a spiegarmi uno stato più forte uno stato che magari fosse in grado di far capire in maniera forte in maniera ferma che si entra e si presta aiuto a determinate condizioni è uno stato che non presta il fianco a dei delinquenti che trafficano in uomini quando prima il collega De Bortoli ricordava delle persone messe nel vagone di una stiva vicino alla sala motori che sono morte per asfissia l'hanno fatto contando su due cose primo sapendo che se arrivano vivi alle acque territoriali bene se no per noi c'è l'impunità perché tanto prima ci devono identificare poi ci lasciano andare ci succede poco e niente perché all'estero diamo anche questa impressione di stato molto debole dal punto di vista della giustizia e poi l'hanno fatto perché sapevano che tanto chiamavano e arrivava qualcuno a prenderli quindi hanno giocato un po' sulla legge dei grandi numeri perché quando tu ne sai è brutto dirlo parliamo di esseri umani parliamo di esseri umani ma quando tu imbarchi 600 persone 500 accetti anche il rischio che ne muoiano 30 dici beh alla fine ne abbiamo salvati 570 ecco se l'Italia avesse la forza e poi dopo parliamo da che livello di far capire che è finito questo spazio che è finito non si può giocare più con la vita umana io credo che noi saremo meno complici di molte morti e sicuramente metteremo la parola fine ad altri traffici di esseri umani prima è stata ricordata Malta Malta cosa fa siete sicuri che Malta stia sbagliando nel suo atteggiamento certo uno legge dall'esterno Malta cosa fa si limita a fare una telefonata agli italiani dicendo cari signori italiani sapete cosa c'è ci sono altri 500 delle liti andate voi perché per noi possono morire là cosa fa l'Italia giustamente siamo uomini con una coscienza andiamo a salvarli ma se l'Italia avesse la forza di andarsi a imporre negli ambiti dove deve se l'Italia mostrasse una volta Presidente mi passo i termini le palle io credo che ci sarebbero molte meno morti e finalmente e finalmente molti sentimenti che vengono magari tacciati troppo facilmente di razzismo tra virgolette non sarebbero così perché se sarebbe la gente capirebbe che si va a aiutare veramente nell'ottica comunitaria noi siamo la frontiera però siamo una frontiera che sembra che siamo solo noi perché la Spagna di Zapatero o quando era di Zapatero gli sparava dietro Malta se ne frega se non ci vanno gli italiani bene se no e poi l'Europa se ne lava le mani allora prima qualcuno sindaco l'ha elogiata io non la voglio elogiare per il suo atteggiamento ma non perché ce l'ho con lei mancherebbe altro però io credo che forse una presa di posizione concreta forte di uno comune che dice no fa ribellione civile dice caro Stato tu secondo me sbagli non puoi dirmelo quattro ore prima usi poi lei lo stratagema che vuole come vuole introdurre il discorso il fatto che gli hanno detto quattro ore prima il fatto che non l'hanno informata sullo Stato su chi hanno queste persone lei fa ribellione civile il comune di Pordenone si rifiuta a queste condizioni ecco io credo che sarebbe un segnale forte benvenga anche l'ordine del giorno chiaramente anch'io sono il primo a sottoscriverlo però credo che sarebbe forse un segnale più forte quello di far vedere che c'è un'intera comunità che vuole veramente risolvere il problema e non andare a ingigantire il problema creando poi degli asti interni tra i nostri poveri e gli altri disperati che arrivano da fuori a cercare aiuto perché alla fine c'è un insieme di persone che su questo qua ci gioca su queste cose facciamo vedere che siamo veramente vogliamo risolvere il problema e non siamo delle marionette alla balia e alla merce di Roma imponiamoci diciamo no il comune di Pordenone risponde di no signori adesso sono fatti i vostri cosa fate? ci commissariate? ci rimettiamo in blocco? facciamo siamo uniti dimostriamo risolviamo il problema però non nascondiamoci ancora una volta tanto è colpa di Roma tanto è colpa della comunità europea ecco io ritengo sì che per questo non sono contento della dichiarazione che mi ha dato né per motivi di razzismo credo che quello che ho detto non possa prestare il fianco all'accusa di questo tipo ma perché ritengo che sia un modo debole di far capire e di far capire a chi governa e a chi ha il potere di bloccare quell'operazione che fa schifo perché è un'operazione che fa schifo e di far sentire le opportune sedi sia il momento giusto ecco ma ringrazio grazie 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 e concedere franchino prego grazie signor presidente dunque il tema è un tema estremamente serio cioè non si può giocare su un tema come questo a battute e quindi neanche a slogan secondo me ma io voglio solo puntualizzare la nostra attenzione su tre cose la prima cosa è che i dati Istat giugno 2014 danno un calo della popolazione complessiva italiana un aumento degli italiani che emigrano e una diminuzione di persone straniere che entrano in Italia cioè l'Italia nel 2014 secondo l'Istat ha un passaggio più di ragazzi italiani fondamentalmente che vanno all'estero rispetto a persone straniere che vanno in Italia cioè noi ci troviamo a dover difendere una situazione che ci vede estremamente contraddittori in questa cosa perché se noi superiamo la fase della pietas non so di quel senso di umanitario ma cerchiamo di ragionare razionalmente il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno di massa che non è facilmente da nessuno è possibile controllare e trattenere io sono stato in Texas lì si ha l'idea di cosa vuol dire sono stato a Sant'Antonio in Texas ci sono le bande di cittadini texani che girano con questi pick up con i fucili e fanno il percorso del confine ma questo è un segno di una debolezza di un paese che è invece in grado di fare ben altro ma ha una capacità di attrazione e anche di amalgama dentro lo Stato estremamente importante che noi dovremmo riflettere piuttosto che puntare ad atti di forza dal tono della Bossi Fini è una legge che ha accompagnato gli anni più caldi del passaggio dai paesi secondo me non i paesi poveri i paesi disperati è una cosa diversa cioè quando io penso che un padre o una madre mettano su quelle barche lì uno, due, tre figli magari appena nati vuol dire che o sono disperati al punto di non poter valutare nulla di quello che può succedere oppure la loro capacità di ragionare su quello che sta succedendo è zero perché non è possibile quindi noi non ci troviamo di fronte a un fenomeno in qualche modo delimitabile col raziocinio noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che ha dimensioni di massa che vede popoli estremamente poveri che sono i due terzi di umanità che cercano di vivere un po' meglio e se non mettiamo in atto meccanismi io scondivido il consigliere De Bordi che ha fatto un intervento che io ho ascoltato con attenzione e che dà un segnale di tentativo di dare un minimo di regola perché tutti abbiano diritto a delle cose ma la regola deve partire ovviamente da chi queste cose le può fare non certo con atteggiamenti che possano in qualche modo mettere in dubbio che la vita è un diritto e che tutti hanno diritto di viverla questa vita io penso che sia fondamentale che noi riflettiamo sul fatto che l'Italia ha occupato quasi tutto il mondo con persone nate in questo paese che hanno anche esportato cultura perché no hanno esportato un po' di tutto cioè sono stati accolti sono stati messi se voi andate a New York a vedere dove la zona di accoglienza è una prigione senza tante mezze misure insomma quindi è quello che sta succedendo anche qua cioè il meccanismo si ripete nei secoli sempre lo stesso cioè nessuno vuole accogliere chi quando giustamente le viene chiesto di portare a casa insomma si chiede chiaramente ma chi di noi si porterebbe cioè nessuno di noi farebbe questo passaggio di fatto perché è un passaggio estremamente intimo insomma non so come dire ma il passaggio invece che io valgo quanto gli altri è un passaggio che noi almeno in questa aula dobbiamo riaffermarlo è sottolinearlo non possiamo pensare che qualcuno decida se è giusto o no salvare la vita di un'altra persona cioè è una cosa che va fuori da qualsiasi capacità di cioè questa questa è un'aula di di levatura che almeno io penso che lo sia di levatura molto importante diciamo non può permettere questa cosa deve dire signor sindaco grazie perché lei ha accolto 29 persone le ha accolte con dignità le ha assecondate ha fatto un'operazione di coinvolgimento dei comuni vicini che è la cosa che noi da molto tempo cerchiamo di in qualche modo di sollecitare anche attraverso atti non solo come questi che sono atti non solo come dire che toccano l'umanità delle persone ma anche atti in qualche modo amministrativi ma che sono collegati però perché costituire un territorio con una rete capace di mettere in moto meccanismi vuol dire anche accogliere chi ha bisogno quindi il secondo punto mi sembra che vada fatto un plauso alla sua azione perché in qualche modo queste persone si sono sentite io penso con una dignità insomma teniamo presente che vengono dalla Siria che magari sono popoli che hanno culture che non hanno nulla invidiale alla nostra hanno semplicemente vieno passaggi diversi quindi ci sarebbe da riflettere su questo e quindi io penso che questa cosa di trasformare una una situazione di grave insomma di grave difficoltà per noi e per loro trasformarla in un momento in cui riuscire a dare una cornice di accoglienza dignitosa con delle regole ovviamente sia un passaggio importante grazie consigliere il sindaco per l'informazione che ha trasmesso al consiglio e anche l'impegno e la promessa che questa informazione sarà e continua anche nelle prossime stimane anche se il consiglio comunale non dovesse non dovesse riunirsi penso che quanto lei ci ha riferito e quanto ha fatto con i suoi collaboratori sia estremamente importante sia il segno di una città che in qualche modo cerca di essere attenta a un problema che le cui soluzioni non possono certamente trovare risposta in quest'aula io ho sentito degli interventi da parte di consiglieri estremamente seri estremamente importanti e ho sentito anche degli slogan e delle battute io penso che queste strade devono completamente dividersi perché il problema sulla persona è un problema di attenzione è un problema di rispetto è un problema di dignità e pertanto su questo fronte dobbiamo essere estremamente attenti a ciò che diciamo e a ciò che professiamo certamente il problema dell'immigrazione non è un problema che si risolve nelle aule dei consigli comunali è un problema che non si risolve neanche nei parlamenti visto la portata e la delicatezza dell'argomento io spero che mi auguro che anche il semestre di presidenza italiana possa in qualche modo affrontare in maniera più incisiva proprio per il fatto che il nostro paese è uno di più esposti a questo tipo di problema che dicevo possa essere affrontato in maniera più incisiva e più puntuale al fine di trovare una soluzione al problema certamente il problema del consiglio comunale penso che tutto il consiglio comunale in questo senso dovrebbe manifestare apprezzamento e sostegno a quanto ha fatto il sindaco e soprattutto al fatto di incoraggiare il sindaco affinché trasmetta agli organi competenti magari una segnalazione di come si può dire anche di protesta sul fatto di come vengono svolti e organizzati questi percorsi perché penso che non sia corretto né giusto né per le amministrazioni che si trovano ad affrontare i problemi né per le persone che ne sono soggette che si possa tradurre in pochissime ore la soluzione del problema il sindaco ci ha detto che quattro ore prima erano stati avvertiti e tra l'altro di una provenienza di queste persone da tutt'altra zona ecco questo io penso che sia un aspetto estremamente importante estremamente delicato nel quale non il Parlamento ma i consigli comunali si possono entrare nel merito perché è un rapporto tra enti dello Stato tra enti nazionali e enti locali e questa è la nostra competenza questo è il nostro ruolo ed in questo ambito noi dovremmo sollevare una protesta perché questo significa rispettare gli enti locali significa rispettare le diramazioni dello Stato poi il sindaco ha fatto un passaggio che forse è stato mai capito e ha detto che la solidarietà deve essere vincente ma l'organizzazione deve essere completamente rivista io penso che queste siano le parole che vanno sottolineate e che vanno trasmesse perché su queste sulle quali noi possiamo focalizzare il nostro operato come consiglieri comunali come consiglio come giunta e come organi degli enti locali che sono chiamati in qualche modo a rispondere a queste emergenze grazie grazie consigliere freschi bene signori non vedo nessun altro iscritto pertanto passiamo secondo l'ordine lavora le interrogazioni sono 19 e 18 abbiamo detto dedicheremo un'ora interrogazione numero 21 il signor sindaco del comune di Pordenone oggetto Iuctasi il sottoscritto consigliere comunale premesso è la sua interrogazione questa prego va bene allora interrogazione numero 21 Iuctasi e l'altra interrogazione la 22 oggetto con 3 milioni in più dalla regione agevolazione di trazione per Tasi e Tari così il sindaco di Udine Onsel se il consiglio è d'accordo possiamo dare subito la parola all'amministrazione prego le riepilogo io comunque grazie presidente grazie consigliere dell'opportunità che così discutiamo una sola volta magari raccruppando tutte le considerazioni e facendo un quadro un po' più generale della situazione in sostanza le domande che lei fa sono le seguenti ma quanti edifici beneficiano di quella detrazione che abbiamo fatto sul regolamento Iuc e riguardano l'applicazione della Tasi perché non spediamo a casa direttamente i bollettini precompilati della Tasi così ovviamente gli utenti cittadini hanno meno problemi perché anche fare un calcolo semplice non tutti hanno le opportunità la possibilità di farselo tranquillamente a casa e la terza domanda perché non abbiamo aspettato di approvare il bilancio di previsione ad oggi visto che c'era una variazione possibile con l'utilizzo dell'avanzo dell'amministrazione da parte della Regione che ci permetterebbe di avere più risorse da usare anche per la decontribuzione per la diminuzione della tassazione queste sono in sostanza le domande che lei fa innanzitutto sulle premesse concordo quando lei dice guardate che la Tasi non è niente altro che l'Imu sulla prima casa mascherata lo abbiamo dichiarato anche noi proprio in sede di bilancio abbiamo detto guardate che non facciamo grandi calcoli su questa applicazione la prima applicazione di questa tassa sapevamo sapevamo quanto ci entrava di l'Imu prima casa e abbiamo fatto il conto per far rientrare più o meno lo stesso importo dell'Imu prima casa concentrando gli sforzi di detassazione che avevamo a disposizione con le poche risorse che avevamo a disposizione in particolare sulla tassa rifiuti oggi si chiama Tari e sulla l'Imu sulla seconda casa e di conseguenza pochi ragionamenti sulla tasi un'applicazione proprio partendo dal presupposto che c'era una venir meno di un trasferimento del governo a favore dell'Imu sulla prima casa sull'ex Imu prima casa per quel che riguarda le altre considerazioni noi abbiamo oggi disponiamo di una banca dati con un margine di errore abbastanza limitato soltanto sulle prime abitazioni che sono a Pordenone 10.800 circa su un totale prima abitazione abbiamo una banca dati che pur non essendo ancora bonificata ha margini di errore limitato sulle altre abitazioni la banca dati del comune va bonificata va fatto un investimento importante che vogliamo fare perché è un investimento che poi le dirò produrrà dei risultati anche di efficientamento e di comodità per l'utente che secondo me sono importanti le dicevo 10.800 abitazioni su un totale di 27.000 alloggi su 10.800 abitazioni prima casa la rendita sopra gli 800 euro appartiene a 3.600 casi quindi 3.600 casi su circa 10.000 un terzo più o meno un terzo se noi facciamo una proporzione sull'intero prego sopra gli 800 perché noi consideriamo comunque la rendita preaumento preaumento dell'1.60 da parte del governo Monti d'accordo e quindi abbiamo due terzi delle prime abitazioni che sono sotto gli 800 un terzo sopra analogamente sulle 27.000 abitazioni totali circa 9.000 sono sopra quindi un terzo non hanno diritto alla detrazione di 25 euro e gli altri invece sì di fatto quindi due terzi della prima casa avranno detrazione di 25 euro due terzi delle seconde case non pagheranno il 100% ma pagheranno il 90% perché il 10% è riservato agli inquilini e agli effettuari e possiamo dire che solo un terzo degli appartamenti in affitto i titolari del contratto d'affitto pagheranno tasi perché gli altri sono sotto i 25 euro quindi la detrazione va a togliere completamente la tassa banca dati la banca dati noi dobbiamo fare in questi mesi prima della fine dell'anno prego non ce l'ho questo dato non ce l'ho mi dispiace provo a vedere se lo recupero glielo trasmetto io spero che con la banca dati noi riusciamo ad avere anche questo dato preciso perché le ripeto se c'è da spendere qualcosa per avere questi dati è importante che noi abbiamo le abitazioni i metri quadri la rendita catastale se sono in affitto se sono non locate questi sono dati essenziali che dobbiamo recuperare le ripeto a costo di rincaricare un'impresa che ce lo faccia sta bonifica ci metta nelle condizioni il prossimo anno di spedire a casa il bollettino della Tasi perché noi riscontriamo che è più il fastidio delle persone di andare a capire quanto devono pagare che in sé per sé l'importo che devono pagare quindi il fatto di spedire a casa significa dare un grosso contributo alla nostra alla nostra comunità ma poi non ci basta semplicemente costruirla ma bisogna anche mantenerla nella banca dati e mantenerla significa efficientare anche gli uffici significa che se uno va allo sportello dell'anagrafe per cambiare la residenza vorremmo che automaticamente cambiasse l'intestatario dell'utenza per la raccolta rifiuti senza che lo stesso cittadino si debba arricare l'ufficio tributi e così anche per il registro imprese che il cambiamento di intestazione dell'impresa andasse a modificare direttamente la nostra banca dati significa per noi avere una diminuzione di lavoro nel front office notevole perché non le dico quanto tempo prendiamo anche per aiutare i cittadini a compilare semplicemente la scheda per la denuncia dei rifiuti dell'Atari e questo significa fare un salto di qualità in termini di efficienza e in termini anche di comodità per l'utente l'altra domanda che ci faceva era quella non conveniva aspettare questa variazione di bilancio dell'assestamento da parte della regione e poi approvare il bilancio ne abbiamo parlato anche in giunta ma secondo noi il valore dell'operare nella certezza di obiettivi è un valore secondo me importante c'è una struttura quando ha certezza di obiettivi è in grado di essere molto più efficiente e se è molto più efficiente significa che noi dobbiamo come fanno le aziende approvare i bilanci all'inizio dell'anno in maniera che ci siano degli obiettivi precisi da raggiungere e ci sia certezza nell'operare io ho fatto una raccolta dopo le leggerò un po' di dati degli altri comuni e dico la verità senza utilizzare quelle risorse a confronto con gli altri comuni capoluogo non ne usciamo male cosa facciamo della manovra finanziaria della regione di questo utilizzo dell'avanzo tra l'altro avremo probabilmente anche qualcosa in più da parte dei rendimenti delle azioni dell'ATAP avremo qualcosa che arriva da un contributo che ci dà lo Stato sul sovragettito IMO quindi abbiamo un po' di risorse e vabbè ne parleremo a settembre perché oggi facciamo una variazione più tardi facciamo una variazione di bilancio che è obbligatoria per alcuni aspetti però a settembre ci sarà la vera variazione di bilancio ma su quella variazione di bilancio io vorrei ragionare su risorse che se non vengono spese quest'anno ma sono importanti soprattutto quando andiamo a rimpinguare quei fondi di rivalutazione del credito che non riusciamo a ottenere a farci pagare che altrimenti con la nuova legislazione non facciamo altro che rigirare verso gli utenti virtuosi cioè noi perdiamo quelli che non pagano e aumentiamo le tasse a quelli che pagano è una cosa che lo Stato ci impone per normativa ma che noi vorremmo evitare andando a costituire questi fondi che ci permettono da un lato di salvaguardare le entrate perché ogni tanto ci si chiede ma come mai certi comuni hanno un default di cassa cioè non riescono a pagare le fatture perché le entrate che prevedono sono entrate sulla carta ma che poi non si concretizzano noi dobbiamo fare bilanci che non siano proprio più di previsione ma siano bilanci anche di cassa e di competenza bilanci che hanno certezza nell'agire e che ci permettano di essere tra virgolette virtuosi nel senso che quello che prevediamo all'inizio dell'anno poi si concretizza durante l'anno compresi quelle che sono le mancate entrate che in questo periodo della nostra di crisi anche economica sono mancanze di entrate quasi fisiologiche e quindi un buon utilizzo di quelle risorse ci sarà le dicevo abbiamo fatto i confronti con gli altri comuni e non possiamo che farlo su due su due fronti confrontiamo IMU e confrontiamo TASI che sono componenti dello stesso calcolo dal punto di vista tributario io me lo suggeriva il sindaco prima non calcoliamo per esempio il fondo Trieste o il fondo Gorizia che sono fondi che aiutano notevolmente quelle comunità rispetto anche al pareggio di bilancio però non li calcoliamo facciamo finta che siamo trattati tutti uguali in questa regione in questo momento bene l'aliquota dell'IMU per Udine è 7,6 per i C3 laboratori artigianali per le unità abitative tenute a disposizione non locate sono al 9,8 per mille per le imprese siamo al 7,6 per le aree fabbricabili siamo all'8,6 per mille la TASI di Udine che abbiamo si possono reperire questi dati anche su internet 2,5 per mille sull'abitazione principale 2 per mille sull'abitazione principale di categoria A1 A8 A9 2,5 per la casa coniugale 2,5 per mille per le A2 A3 A4 A5 A6 2,5 per le unità inubiniali appartenenti a cooperative indivise per gli ACP hanno fatto 0 hanno fatto meglio di noi e per i fabbricati rurale l'1 per mille hanno fatto meglio di noi anche per le aree fabbricabili hanno fatto meglio 0 noi abbiamo sempre l'1 via 25 ma io credo che complessivamente non siamo male rispetto al confronto la stessa cosa per Trieste Trieste oggi ha disposizione soltanto l'IMU che è al 6,5 per mille per immobili ad uso abitativo dati in locazione mediante la stipulazione di quei contratti concordati diciamo è all'8 45 per mille per i negozi i laboratori tutti i C3 per gli altri immobili siamo al 10,6 per mille per le aree edificabili all'8 5 per mille per i fabbricati del gruppo D il 9,7 per mille credo che senza la Tasi siamo già meglio di Trieste in questo momento ma invece per quel che riguarda Gorizia è più competitiva con noi perché la Tasi di Gorizia è anche se sono notizie ancora non certe ma da confermare si dice all'1,50% per quel che riguarda l'aliquota è solo sulla casa principale tra l'altro mentre per l'Imu ce l'hanno al 7,6 per mille per le aree edificabili e gli altri immobili e per le fabbriche diciamo le banche le fabbriche le assicurazioni al 10,6 per mille io dico che senza l'avanzo dell'amministrazione non siamo andati a male adesso bisogna vedere come lo utilizziamo se lo utilizziamo al meglio questo avanzo grazie grazie assessore il consigliere può dichiararsi soddisfatto per entrambe le interrogazioni ovviamente prego un minuto se vuole anche 30 secondi sono 5 più 5 10 sono due interrogazioni 5 più 5 allora le cose si esauriscono abbastanza velocemente io innanzitutto la ringrazio perché è stato tempestivo nella risposta a queste interrogazioni sono praticamente due settimane fa quindi ancora me le ricordavo ecco me ne ricordavo il contenuto e poi credo le chiedo se potrò avere copia insomma di parte di questi questo studio questo parametro che avete fatto rispetto alle altre agli altri capoluoghi capoluogo di provincia della nostra regione le ho chiesto la ringrazio perché lei ha condensato in sostanza le risposte e dice l'amministrazione comunale di Pordenone è virtuosa perché comunque l'aliquote che è applicato in questa complessa vicenda io ve l'ho sempre detto e l'ho sempre riconosciuto una complessa vicenda immagino sia stato anche per gli uffici dell'amministrazione comunale dell'applicazione dell'Imu e poi della IUC sicuramente ha impegnato molte persone e quindi e ha comportato anche delle scelte politiche in una normativa che con la è stata soggetta insomma a diversi cambiamenti modifiche rinvii stop and go insomma incertezza anche normativa sui tempi in cui si sarebbero dovuti fare i bilanci approvare i bilanci di previsione io no e quindi lei ha messo insieme dice oggi e rappresenta una cosa primo siamo in comune in regione sostanzialmente che sull'aliquote tiene l'aliquote più basse il 4,6 Imu ancora prima casa oggi sulla Tasi l'applichiamo all'uno per mille diamo le detrazioni di 25 euro alle rendite catastali entro gli 800 euro e quindi mi dice che c'è un plafond di circa 8.000 no abitazioni diciamo abitazioni due terzi che sono rientrano sostanzialmente in questo beneficio anche lì poi bisogna distinguere il beneficio che va a favore del conduttore rispetto a quello del proprietario ma insomma sostanzialmente un quadro di questo tipo fatto sta che alcuni giorni fa casualmente esce questa notizia secondo la quale il sindaco di Udine a Onse dice ma siccome ho ricevuto dopo la riunione del Cal 3 milioni non previsti dalla regione questi 3 milioni li utilizzo per le detrazioni nella IUC la Tasia e sembrava che l'amministrazione comunale che a voi diciamo dello stesso colore si orientasse ma mi sembra che così non sia dal dato che mi ha portato lei oggi si orientasse per una soluzione di questo tipo cioè coloro i quali pagano l'Imu non pagheranno la Tasi proprio perché questo è il ragionamento di Onse se tu paghi l'Imu la Tasi se la Tasi va praticamente a garantire la differenza di gettito mancante a seguito dell'illuminazione dell'Imu sulla prima casa reintrodotta con la legge di stabilità 2014 dello Stato è evidente che a questo punto per una esigenza di equità tu paghi già l'Imu ti lascio perdere quindi pagheranno la Tasi solo quelli della prima casa pare che così non sia visto che le alicote sono 2,5 benissimo ma qui vengo al discorso politico allora io l'ho sempre sostenuto da quando sono in questo consiglio comunale che questo comune avrà subito dei piccoli tagli nei trasferimenti dalla regione tagli forse più consistenti al trasferimento dello Stato ma che non si sono visti prima per curiosità mi sono preso la relazione di accompagnamento bilancio previsione 2014 dei revisori dei conti e ho visto che i trasferimenti dello Stato tali sono i trasferimenti alla regione tali rimangono e siccome voi non siete nati sotto il cavolo sapete benissimo che questo sistema che abbiamo in Friuli Venezia Giulia delle autonomie completa le previsioni di entrata in termini di ciò che rappresenta oramai o da parecchio tempo circa il 40% delle entrate del comune cioè i trasferimenti dalla regione voi sapete che potete contare su un quadro completo solo verso giugno luglio cioè quando si arriva all'assestamento di bilancio della regione dove si distribuisce quello che è l'argent così viene detto viene trattenuto nel bilancio di previsione di dicembre e poi ciò che c'è ci sarà la crisi la crisi economica sappiamo tutte queste cose poi si vede e poi si distribuisce in base alle esigenze mi risulta che la richiesta che il sistema dell'autonomia i comuni avevano svolto cioè avanzato scusatemi alla regione Frivenza Giulia fosse di circa 70 milioni per cui la regione alla fine e questa manovra l'avete approvata anche voi che state all'interno del Cal avete approvato una manovra che tra pochi giorni distribuirà circa 40 milioni di euro la giunta Seracchiani mi correga sindaco credo che siano 40 milioni no? no di più mi dicono 40 40 milioni di euro che andrà nel sistema dell'autonomia tra pochi giorni ecco bene è ipotizzabile che il comune di Pordenone riceva 500 mila euro? è ipotizzabile che il comune di Pordenone riceva un milione di euro? questo sappiamo come viene l'assegnazione di questi fondi una parte sarà diciamo tra virgolette per esigenze particolari così si dice per il resto si seguono i criteri indice popolazione complessità abitanti sui quali si svolge il sistema di finanziamento delle autonomie locali dei comuni dei trasferimenti e quindi io posso dirle che ad un calcolo spannometrico potrei contare oggi tra 15 giorni di un non so dico un milione due milioni in più ecco se ne riceve tre non previsti Udine ne riceverà un milione Pordenone perché se no vuol dire che non avete peso politico questo è il fatto allora siccome siccome non è così perché in realtà i soldi sono molto più consistenti cioè la cifra è diversa allora io capisco che voi siete stati avete un'intelligenza luciferina perché avete approvato il bilancio di previsione a marzo di quest'anno e sapevate sapevate che il governo Renzi avrebbe iniziato l'avvio di una lunga stagione sapevate che avreste potuto contare sulle magnifiche sorti progressive del numero due del PD vice segretario nazionale che fa anche il presidente della regione Fulinezze Giulia fa anche il presidente della regione Fulinezze Giulia e che in qualche modo vi garantisce vi tutela quando lei signor sindaco decide di non firmare l'accordo di programma e quindi vi dà la possibilità di impiantare un finto ospedale da un'altra parte cioè 50 metri più in là poi con l'assunzione della responsabilità dell'aver buttato letteralmente via oltre 5 milioni di euro che sono stati spesi nella progettazione io sono poco dentro le cose della Corte dei Conti non come legale più come imputato come imputato no? e allora ogni tanto vorrei capire vorrei capire vorrei capire perché a taluno tutto è consentito ad altri non è consentito vorrei capire perché a Trieste da quelle parti si dorma c'è una complicità sospetta no dopo specifico questo concetto perché mi sto perdendo ecco allora no dopo glielo spiego perché per questa ragione ho chiesto di unificare le due interrogazioni allora prima avete approvato bilancio di previsione a marzo di quest'anno sulla giustificazione che avevate un'esigenza immediata impellente che era la manifestazione degli alpini l'adunato degli alpini benissimo uno dei pochi comuni in Italia arriviamo a questi rinvii decisi dal legislatore regionale arriviamo alle variazioni di bilancio e voi praticamente all'interno di una manovra dove i trasferimenti dalla regione sono pressoché gli stessi dove i soldi che vi arrivano non sono cambiati perché non sono stati tagliati del 30% cioè cifre importanti tali da mettere in ginocchio un bilancio avete bloccandovi qualsiasi possibilità di intervento approvato il regolamento EU che non si poteva più modificare e arrivate adesso dicendo se ci arriva qualcosa in più lo utilizzeremo guarda caso quando nel 2015 deve concludere concludo nel 2015 esattamente un anno prima o poco prima qualche mese prima delle elezioni ecco ecco la manovra luciferina allora se non l'avevate pensato se non l'avevate pensato siete degli sprovveduti perché io posso immaginare che una manovra di questo tipo possa nascere solo da coloro i quali avevano in mente un obiettivo preciso dimostrare che con più soldi a disposizione avrebbero eliminato la Tasi ad esempio non ci avete pensato ve lo dico io perché io speravo che questa manovra nascesse da questo calcolo ma non c'è neanche questo questa è l'aspetto deve concludere consigliere drammatico concluda drammatico di questa gestione dico drammatico e qui concludo anche su un altro fatto no devo togliere no no scusate mi dispiace non posso fare differenzione tra lei e i suoi colleghi oggi guardi hanno parlato mi lasci solo no le tolgo la parola lei deve concludere concluda un piccolissimo inciso un piccolissimo inciso proprio tecnico 15 secondi proprio tecnico benissimo lei mi dice che il comune si attrezzerà per istituire una banca dati bene ben fatto quindi prossimo anno la tasse arriverà direttamente a casa quindi i cittadini non avranno il problema di andare dal commercialista o dai centri di assistenza fiscale benissimo perfetto è un obbligo di legge non è che se lo inventa il comune di Tordanova ve lo dice la legge di stabilità dall'anno successivo la tasse dovete mandarla sui numeri sui numeri ci sono 24.500 abitazioni 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 di cui 22.300 occupate 2.200 vuote cioè sfitte non utilizzate in vendute 6.000 abitazioni concesse in locazione per questo l'ho chiesto prima che numeri aveva sulle locazioni questi dati li ha prodotti la provincia di Pordenone all'interno dell'osservatorio della casa nella quale voi avete in qualche modo partecipato tramite un assessore non credo fosse lei mazza forse ci sarà stato l'assessore Toffolo o altri ecco questo per dirvi una cosa in città abbiamo gli stessi abitanti del 1991 mi sembra che su questi dati ci confronteremo oltre ad aver dimostrato avervi dimostrato che è stata assolutamente inopportuna e improvvida la gestione la scelta di aver approvato il bilancio di previsione già a marzo di quest'anno grazie consigliere bene passiamo ora all'interrogazione numero 23 prego no abbiamo sempre detto che noi controlliamo le presenze non le schede perché sono di più le schede se vuole controlliamo le schede ma sono di più di schede inserite ce ne sono più dei presenti perciò ne conto no è il contrario i presenti sono 23 le schede saranno quante 31 ma noi ma il segretario mi deve correggere noi consideriamo presenti chi è presente fisicamente non chi lascia la scheda le schede servono solamente ma è questa è una cosa sì esatto grazie possiamo proseguire chiedo se il segretario mi da conferma siamo 23 sì grazie c'è il numero legale interrogazione numero 23 restituire decoro di dignità al centro direzionale di Pordenone la sottoscritta Mara Piccin presidente del gruppo consigliare premesso deve rispondere solo con 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 conficoni e Valenoncello allora interrogazione numero 25 scuola primaria di Valenoncello urgenti lavori di messa in sicurezza del parcheggio la sottoscritta consigliere comunale Mara Piccin premesso che la messa in sicurezza dei edifici scolastici e delle aree attive rappresenta una priorità inderogabile per la pubblica amministrazione detto che alcuni edifici scolastici presentano criticità piuttosto evidenti rilevato che il parcheggio retrostante della scuola primaria Leonardo da Vinci di Valenoncello versa in condizioni indecorose e potenzialmente pericolose per coloro che la frequentano evidenziato che alcuni lavori di strutturazione interna del plesso sono stati già effettuati negli scorsi anni ed altri sono in procinto di essere eseguiti osservato che investire sul nostro futuro e sui bambini deve essere la priorità per un'amministrazione pubblica verificato che detto parcheggio oltre ad essere al servizio della scuola elementare viene anche utilizzato da chi frequenta le strutture sportive in loco o ricadenti interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere 1. se il comune è a conoscenza dei problemi sopra elencati 2. se non si ritenga doveroso avviare un intervento urgente di messa in sicurezza dell'area retrostante della scuola 3. se il signor sindaco è nelle condizioni di garantire che porrà rimedio a questa situazione entro l'inizio del nuovo anno scolastico il presidente del gruppo consigliare Mara Piccin Assessore Mazzer prego Sì consigliere rispondo io perché un pochettino l'ho seguita la questione che rientra nelle competenze dell'assessore Conficoni quel parcheggio lì utilizzato alla mattina dai genitori perché è comodissimo per scaricare i ragazzi per parcheggiare provvisoriamente che noi manteniamo il più possibile nel senso che essendo di ghiaia dobbiamo ogni tanto riportare ghiaia cercare di mantenerlo in ordine transitabile per le macchine quel parcheggio lì comunque è una pertinenza sarebbe una pertinenza dell'impianto sportivo c'è già un progetto comunque e c'è già un progetto che contempla e l'esigenza dell'impianto sportivo e l'esigenza della scuola che fondi utilizziamo utilizziamo alcune economie che abbiamo avuto nella realizzazione degli argini di Valenoncello le economie andavano in due direzioni diverse in due progetti diversi uno è il progetto di via del passo e l'altro è invece quel progetto che riguarda tutte le zone di accesso alle stazioni di sollevamento che ci sono in quell'ambito predisporre anche una pista diciamo una strada per far entrare l'autobulanza per quando ci sono manifestazioni sportive e nello stesso tempo poter fare un parcheggio con tutti i crismi con delle aree drenanti per le postazioni delle macchine e delle aree asfaltate invece per poter circolare correttamente con la macchina riuscire a fare il giro senza nessuna confusione con i parcheggi tutti segnati e con un po' di piantumazione anche perché ci sia un po' di ombra per le macchine che vengono parcheggiate soprattutto delle insegnanti che restano lì magari tutto il giorno questo progetto ce l'abbiamo e in passato è stato frenato da due cose perché operiamo con fondi in delegazione amministrativa da parte della regione quindi abbiamo bisogno dell'approvazione anche della regione e ovviamente dal patto di stabilità le ultime notizie è che siamo in grado di avere un via libera da una parte della regione e abbiamo alcuni spazi che possiamo utilizzare in patto di stabilità quindi sicuramente non per l'inizio dell'anno scolastico ovviamente l'oggetto principale sono le stazioni di sollevamento che quelle sono il problema principale cioè il progetto riguarda soprattutto quelle perché noi dobbiamo essere nelle condizioni nel momento che c'è l'emergenza che quindi si alza il fiume Noncello che non si può più scaricare perché si chiudono automaticamente tutte le paratoie verso il Noncello dobbiamo essere in grado di sollevare l'acqua che piove a Valle Noncello e portarla oltre l'argine questa è la motivazione principale di quell'intervento ma nelle pieghe di quell'intervento ci sarà la possibilità anche di sistemare il parcheggio le ripeto sicuramente non prima dell'inizio dell'anno scolastico ma credo che l'anno scolastico prossimo potrebbe vedere assolutamente questo parcheggio realizzato finalmente sia a servizio dell'impianto sportivo perché durante le partite del Valle Noncello c'è bisogno che ci sia una separazione fra chi entra come spettatori da una parte e le macchine invece che vengono parcheggiate da parte degli atleti in maniera che ci sia un po' di separazione per motivi anche di sicurezza e nello stesso tempo quando non ci sono le partite questo parcheggio può tranquillamente essere utilizzato dalla scuola in maniera molto più ordinata e senza costi di manutenzione che oggi dobbiamo continuamente avere e in maniera molto più ordinata da parte dei genitori e delle insegnanti della scuola di Valle Noncello grazie prego consigliere grazie presidente grazie assessore Mazzer per la risposta e devo dire che non è che mi sono svegliata oggi con questa interrogazione ma prosegue in un filologico ed una serie di contatti che c'erano stati già con l'assessore Conficoni allora siccome questi lavori non arrivavano mai e ne avevamo parlato in occasione dell'inaugurazione degli impianti sportivi di Valle Noncello di quella parte nuova e credo fosse la primavera del 2012 non so se addirittura era il 2011 ma forse no forse era il 2012 allora ho posto questa interrogazione e lì c'è effettivamente l'urgenza io conosco bene come stanno le cose e c'è un'aspettativa da parte delle persone un po' per questioni di sicurezza un po' proprio anche per questioni di fruibilità da parte di quegli utenti ma anche degli utenti che utilizzano impianti sportivi allora io credo che se la regione ci dà la possibilità di utilizzare questi fondi che sono residuali rispetto siamo certi di questo perché andiamo in assestamento di bilancio se dobbiamo fare una norma o qualche cosa non serve ecco la facciamo tanto non è che dobbiamo mettere risorse aggiuntive mi sembra di capire ma la facciamo con quelle residuali bene così attenzione a che il prossimo anno non li perdiamo gli spazi del patto di stabilità per fare questa cosa qua perché questo mi scocerebbe parecchio ok su questo chiedo io mi come dire mi dichiaro parzialmente soddisfatta io l'interrogazione l'ho fatta perché come dire i lavori non andavano avanti sapevo della progettazione ne avevamo parlato con l'assessore Conficoni allora e quindi voleva eh sì ma voleva significare che a distanza di due anni non si è mossa foglia quindi non è vero che cosa non so eh cioè io rispondo a quello che mi è stato detto quello che ci eravamo detto sì sì che integri pure se ci sono cose che io non so se mi scuso per il ritardo non ho seguito tutto il dibattito la risposta e la replica posso integrare come segue l'intervento sollecitato dalla consigliera rientra in un più ampio quadro di interventi che l'amministrazione comunale intende attuare grazie a finanziamenti statali e regionali che riguardano l'accordo di programma Stato-Regione per interventi urgenti finalizzati alla sicurezza da rischio idraulico cioè il milione e 600 mila euro che ci sono stati assegnati per il potenziamento degli impianti idrovoli di Valle Noncello più 850 mila euro che per lo stesso motivo ci ha dato la protezione civile regionale più altri circa 350 mila euro che residuano dalle economie degli argini dell'intervento degli argini di Valle Noncello di cui l'amministrazione comunale deve ancora incassare per cui sono fuori dal patto di stabilità perché è un'entrata ma anche un'uscita ok ecco e quindi questi tre interventi sono legati e chiaramente nel momento in cui non solo l'amministrazione comunale che sta ottemperando a quanto previsto dalla convenzione cioè sta progettando le opere ma anche il commissario approverà e ci darà il via libera per fare i lavori cosa che ci aspettiamo in base alle rassicurazioni che ci sono state date tant'è che stiamo andando avanti con le progettazioni perché il commissario in una comunicazione scritta ci ha detto di andare avanti quindi ci aspettiamo che se l'iter come tempi viene rispettato alla fine di quest'anno dovremo mettere a gara diciamo entro quest'anno dovremo mettere a gara il prossimo anno si dovrebbero fare i lavori noi siamo al progetto definitivo con la sistemazione dell'area della scuola retrostante la scuola e siamo al progetto ugualmente definitivo per quel che riguarda la sistemazione degli impianti idrovori quindi dobbiamo approvare i progetti esecutivi poi mettere a gara e poi con il via libera del commissario fare i lavori grazie Presidente grazie Assessore per l'integrazione questa sua integrazione qui mi rende un po' inquietta nel senso che nel senso che mi fa capire che i tempi sono ancora lunghi boh allora sì ma Assessore abbia pazienza quelli previsti allora cioè io capisco qui non ci sono soldi rientra in un progetto rientra nel quadro rientra nei fondi santo cielo noi ci siamo parlati di questa questione due anni fa ma allora Assessore abbia pazienza io ho idea di ciò che vedo e siccome non è che voglio eliminare le difficoltà che voi avete le comprendo bene chiedo era possibile togliere fuori da questo mega progetto l'asfaltatura e trovare dei fondi a parte e fare in modo che quel benedetto spiazzo fosse asfaltato e utilizzato lei scuote la testa e dice di no e allora bisogna dire chiaramente benissimo ecco e allora vede che la mia preoccupazione che lei in parte ha tolto perché sono fondi che escono dal patto di stabilità lei ha fatto bene a fare così però siamo chiari nel dire che almeno per altri due anni non vedremo lì i lavori fatti che a fine anno metteremo a gara ci sono tanti se speriamo bene presidente io però guardi questo però guardi no però guardi evidentemente quando si dà il dito poi ci si è abituati a prendere tutto il braccio allora io accetto quello che mi è stato detto dico però dico però che a breve a breve i lavori non verranno fatti io vorrei vorrei come ha detto l'assessore Mazzer non per l'inizio di quest'anno ma per l'inizio del prossimo anno che i lavori fossero scolastico i lavori fossero fatti se riusciamo a strappare tra virgolette questa promessa avere certezze mi sembra una cosa ragionevole perché significerebbe che sarebbero passati quattro anni da quando io e lei ci siamo parlati grazie grazie consigliere recuperiamo l'interrogazione perché adesso c'è l'assessore Conficoni interrogazione numero 23 restituire decoro e dignità al centro direzionale di Pordenone la sottoscritta Mara Piccin presidente del gruppo consigliare premesso che degrado e abbandono stanno facendo marcire il centro direzionale di Pordenone noto anche come Bronx detto che ulteriori quantitativi di rifiuti sono accumulati nell'area in concomitanza con la donata degli alpini e la situazione già critica si è ulteriormente aggravata rilevato che il comune non può permettere che un'intera zona della città avversi in condizioni indegne evidenziato che soggetti privati e pubblico anziché trovare una soluzione hanno dato vita a un grottesco siparietto scaricandosi reciprocamente la responsabilità per la mancata opera di pulizia dell'area interrogo al sindaco e l'assessore competente per sapere 1. cosa farà il comune per restituire decoro e dignità all'area del Bronx 2. se il signor sindaco non ritenga opportuno intervenire con ordinanza ad hoc per superare situazioni di stallo imbarazzanti 3. se l'amministrazione non ritenga doveroso garantire sempre e comunque l'igiene pubblica e la fruibilità della città presenta il gruppo consigliere Marapicin Assessore Conficoni la consigliera nel presentare l'interrogazione solleva un problema che tende a ripetersi con una certa frequenza ci sono alcune aree all'interno del Bronx che non sono state cedute all'amministrazione comunale e per le quali l'amministrazione comunale non è responsabile direttamente per la pulizia o per la manutenzione delle stesse quindi nel momento in cui noi riceviamo delle segnalazioni o ci accorgiamo direttamente che la situazione non è conforme a nostra volta sollecitiamo la proprietà perché esegue degli interventi di pulizia interventi che finora una volta sollecitati si sono sempre eseguiti è chiaro che quando noi sollecitiamo la proprietà ad intervenire puntualmente dopo aver ricevuto delle segnalazioni o averle fatte direttamente noi alla proprietà raccomandiamo anche di eseguire questi interventi con una certa periodicità senza aspettare ulteriori segnalazioni e sollecitazioni sta però chiaramente alla proprietà tenere un comportamento che sia conforme al decoro dopodiché l'attenzione dell'amministrazione comunale per questo tipo di problematica non è mai mancata prego prego consigliera piccini date la parola alla consigliera grazie presidente sì grazie assessore ci mancherebbe altro che l'attenzione dell'amministrazione mancasse in questi ambiti io chiedo se al di là di questa azione che in qualche modo l'amministrazione già fa ci sono altre possibilità ovvero un'azione di come dire di maggiore sensibilizzazione no una un'idea da parte dell'amministrazione sull'intervento sicuramente ci avrete pensato non sono non sono certamente io che vi do questa quest'idea però francamente devo dire la verità siccome le segnalazioni e noi siamo qua se le segnalazioni arrivano a lei arrivano a me arrivano a tutti e se le segnalazioni che arrivano da parte dei cittadini sono tante e continue significa che il problema in qualche modo che c'è e che in qualche modo va risolto io vi comprendo che voi avete in qualche modo le mani legate se riusciste a fare un'azione di sensibilizzazione o se c'è dal punto di vista della progettualità all'interno di quell'area che anche quella pian pianino si sta spopolando perché è andata via la prefettura si sono no così e per cercare di farla rivivere credo che sarebbe cosa buona la verità è che si è preferito come probabilmente non solo qua anche in altri centri ma io parlo di qua costruire esternamente piuttosto che rivalutare mi viene in mente altre altre capitali d'Europa che hanno centri commerciali di quel genere dentro la città noi li abbiamo fatti fuori non abbiamo valorizzato o comunque non c'è stata la capacità nostra e anche di chi aveva voglia di investire perché da soli certamente l'amministrazione non fa niente però la sensibilizzazione sì di cercare di recuperare di riempire quello che è un cuore della città non dimentichiamo ci sta a 20 metri a 50 metri dalla parte più bella che abbiamo che è il nostro corso storico e con una zona verde dietro che se fosse in qualche modo come dire tenuta pulita e rivalutata anche da questo punto di vista sarebbe un'altra carta positiva è un altro valore anche per la nostra città cosa vuole che le dica se più di così non si può fare questa sarà la risposta che io darò ai cittadini che continuano a sollecitare grazie grazie consigliera interrogazione numero 26 petizione no alla rotatoria di via Udine premesso che perdono in via Udine e in fase di realizzazione rotatoria sgradita ai cittadini residenti detto che la suddetta opera viaria porterebbe benefici solo ed esclusivamente ad una struttura commerciale in fase di costruzione rilevato che i cittadini hanno ripetutamente espresso il proprio disappunto rispetto alla decisione di procedere all'attuazione di una rotatoria nei confronti delle istituzioni evidenziato che nel mese di marzo gli stessi cittadini hanno ribadito la propria contrarietà alla rotatoria redigendo e consegnando all'attenzione del sindaco Pedrotti una petizione popolare sottoscritta da quasi 600 persone ho osservato che nello scorso mese di aprile lo stesso sindaco Pedrotti ha comunicato tramite una nota ufficiale di aver accolto il documento che è stato preso in esame per successive valutazioni visto che è stata di recente comunque realizzata seppur in forma non definitiva la rotonda in via Udine interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere 1. se il comune ha proceduto con le valutazioni annunciate con nota 24 aprile 2014 a firma del signor sindaco 2. se in considerazione dell'alta densità di popolazione della zona non si fosse ritenuto opportuno rendere partecipi i cittadini prima di assumere decisioni in ordine alla realizzazione della suddetta rotatoria 3. se il signor sindaco non ritenga opportuno alla luce delle obiezioni emerse rinunciare ad un'opera apertamente osteggiata dall'opinione pubblica il presidente del gruppo consigliare Mara Piccin Assessore Zille prego sì ecco io voglio fare una brevissima premessa via Udine è una degli assi di penetrazione della città abbiamo fatto anche recentemente l'indagine delle auto sono circa 500 auto in entrata a Pordenone e sono circa 700 quelle che escono all'ora quindi voi capite è uno degli assi che ha una certa consistenza di traffico e da diverso tempo già da diversi anni quell'area è monitorata da parte della polizia municipale soprattutto per controllare la velocità tra l'altro è uno degli assi che dal punto di vista della sicurezza stradale è stato indicato e quindi deve avere una particolare attenzione per quanto riguarda tutti gli aspetti della messa in sicurezza due anni fa un gruppo che intende urbanizzare che intende fare un intervento edilizio di tipo commerciale su via Udine ha presentato ovviamente il progetto e su questo progetto prevedeva anche l'innesto viabile su via Udine quel progetto a suo tempo era un innesto AT il settore edilizia privata che seguiva ovviamente la pratica si è ha voluto coinvolgere l'ufficio mobilità il mobility manager per una valutazione se quel tipo di innesto era idoneo da quella quella pratica è stata valutata osservata ed è stata fatta la proposta che anziché fare un innesto AT un innesto a rotatoria perché si ritiene più sicuro e soprattutto in quel tratto retilineo dopo la Savio visto che appunto lì ci sono anche i passaggi pedonali la fermata dell'autobus e quant'altro fosse più idoneo regolare il traffico con un sistema a rotatoria anziché AT il sistema AT prevede normalmente due corsie di scorrimento laterale e quella centrale per le svolte devo dire che quel progetto è stato presentato anche in circoscrizione che ovviamente ha fatto le valutazioni e devo dire che poi da parte è stata impegnata l'impresa a realizzare le opere relative quindi non è stata una richiesta dell'impresa ma è stata una richiesta fatta dall'amministrazione comunale attraverso le analisi e gli studi su quell'asse viario soprattutto in termini di sicurezza stradale sono passati due anni e naturalmente l'opera è andata avanti siamo nella impresa e nella fase esecutiva e quindi dovendo fare queste opere i condomini che stanno davanti il condominio che sta davanti ha visto che probabilmente è qua concordo con quanto affermato dall'interrogante forse se sarebbe stato necessario magari un maggior coinvolgimento io in questo senso l'ho già anticipato e detto anche se devo dire che comunque c'è stato un parere anche da parte della circoscrizione su questo tema ad ogni buon conto quando è stato sollevato il problema l'amministrazione non si è fatta da parte anzi ci sono state una serie di incontri ben quattro mi pare e nel secondo incontro si è stabilito di rivedere se era possibile un quadro migliorativo con ben due proposte rianalizzando la soluzione a T se poteva essere una soluzione migliorativa che poteva contemperare sia per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza sia per quanto anche riguarda le legittime richieste da parte del condominio e l'altra proposta era quella di rivedere anche la rotatoria magari riducendola e vedendo di migliorare anche in base a quelle che sono state le richieste fatte da parte dei condomini che prevedevano peraltro aspetti estremamente condivisibili avere appunto un'area di sosta per i residenti soprattutto per quanto riguarda le emergenze gli anziani l'ambulanza l'auto spurgo tutte quelle cose che attualmente infrangia quel condominio quello spazio veniva utilizzato e di avere un collegamento pedonale sicuro di attraversamento della strada sia perché sono previsti nell'area diciamo così della costruzione circa 28 stalli che vengono poi ceduti ad uso pubblico e quindi fruibili da parte del pubblico ma anche dei stessi condomini che stanno dall'altra parte della strada quindi con la necessità di attraversamento della strada attessa oltre che della fermata dell'autobus che sta anche da quel lato almeno quando va verso il ponte della Meduna quindi erano richieste ben condivisibili da questa serie di incontri l'ufficio ha rivisto ha rivalutato le due ipotesi e alla fine è stato un percorso rispetto in questi incontri si è ritenuto che il sistema della rotatoria è comunque quello che viene incontro a quelle che sono le esigenze di sicurezza per quanto riguarda l'attraversamento e anche per quanto riguarda soprattutto la riduzione della velocità in quel punto vorrei aiutarmi con queste slide per vedere un po' tutto il percorso che è stato fatto ecco come vedete questa è una piantina che estrapola l'analisi dell'incidentalità e quindi della messa in sicurezza il colore viola rosso bordeaux che voi vedete in base la grossezza e l'intensità indica la diciamo così le priorità di intervento sulla strada quindi vedete questa è tutta l'asse di via Udine con il nodo di Borgo Meduna ecco quello che voi vedete questo invece è la proposta di progetto che prevedeva perché attualmente è stata già realizzata la rotatoria di Borgo Meduna una rotatoria in quel del volto Querini una in prossimità di via Levade che al momento è ferma per il semplice motivo che fin quando non viene realizzata la famosa bretella sud che passerà sotto quindi è area di lavoro e poi si è verificata questa opportunità lungo questo rettilineo la possibilità chiaramente di creare una condizione di moderazione del traffico tengo presente che in quel punto noi abbiamo un sistema di monitoraggio anche delle velocità delle auto in questa slide invece vediamo la proposta fatta dall'impresa della soluzione AT in cui si vede l'ingresso all'attività la corsia centrale di svolta l'attraversamento lungo tutto via Udine la realizzazione di una sorta di alberatura per infrangere il rumore e da questo lato la possibilità di uno spazio per realizzare la futura pista ciclabile che è prevista come nel primo tratto di via Udine mentre qua vediamo la parte invece dei parcheggi che vengono poi ceduti per uso pubblico di fatto è stato fatto anche un rendering di come potrebbe essere l'attraversamento AT con le tre corsie ecco qua lo si vede di qua vedete la pista ciclabile e quant'altro è chiaro che in questo modo in questo lato non c'è più spazio per area di sosta come attualmente le auto ci sono su questa parte qua ecco questa era la proposta fatta da parte del condominio che chiedeva una soluzione AT come l'abbiamo sempre vista con la possibilità di creare dei posteggi vedete per il carico scarico per le esigenze più immediate questo progetto è stato sottoposto al parere oltre che dell'ufficio mobilità anche della polizia municipale che ha ritenuto che questo tipo di di posteggi in prossimità dell'incrocio non sono previsti o meglio il codice della strada non li prevede per cui questo tipo di soluzione che noi abbiamo cercato di 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 vedere perché l'abbiamo anche discussa con gli interessati voi capite che essendo questa corsia di scorrimento se noi abbiamo delle auto in manovra in questo punto chiaramente andiamo in contraddizione con la tipologia tra l'altro anche l'utilizzo di questi parcheggi pubblici diventerebbe quanto mai lungo e tra l'altro con un passaggio pedonale lungo in questa parte per cui adesso andiamo alla successiva questa è la rotatoria rivista che nasce diciamo da che cerca di ottemperare quelle che sono le esigenze di carattere generale di sicurezza cercando possibilmente di venire incontro anche le esigenze del condominio quindi la rotatoria è stata ridotta di diametro è una rotatoria compatta è stato previsto in quest'area un'area verde di barriera antirumore in questo punto sono previsti gli attraversamenti pedonali con i relativi salvagente e quindi tratti molto brevi sia da un lato o dall'altro e quindi la possibilità di utilizzare questi parcheggi qua che sono pubblici e quindi in sicurezza e naturalmente fuori della rotatoria quindi con l'abbattimento della velocità la possibilità in questa fase di mettere dei parcheggi che possono essere utilizzati e quindi siamo andati un po' cercando anche di entrare per le esigenze delle persone anziane dell'ambulanza o di quant'altro il carico-scarico in quest'area qua qua si vede che subito dopo la rotatoria c'è la possibilità di entrare e poi all'impresa abbiamo detto di cercare di sistemare di finire tutta l'area come richiesto quindi questa è la configurazione finale dell'opera con le relative modifiche ci sono alcuni aspetti adesso di carattere sperimentale perché la rotatoria è stata messa lì con dei New Jersey proprio per vedere la funzionalità per cui non si esclude che ci sia la possibilità ancora di qualche miglioramento soprattutto è stato visto che per quanto riguarda i ciclisti che vengono da questa parte in attesa che venga realizzata la ciclabile da questo punto devono avere la possibilità di poter entrare e quindi fare questo percorso e poi procedere e quindi messi in sicurezza con una serie anche di paletti proprio per separare la parte del marciapiede quindi sono tutti questi gli interventi che avremmo proposto qua vedete il rendering relativo alla rotatoria di come viene quindi vista verso Pordenone e questa qua verso il ponte della Meduna dove chiaramente qua si vede la rotatoria qua c'è la possibilità di un po' di sosta mentre da questa parte si può realizzare la pista ciclabile che è in previsione del biciplano ecco abbiamo anche fatto un monitoraggio perché siccome l'area è monitorata per quanto riguarda la velocità questo qua sono le analisi della velocità di percorrenza prima dell'intervento della rotatoria questo vedete la linea dei 50 km orari la media vedete è sui 60-65 questo è quello che viene monitorato durante la giornata ecco questo per far capire come avveniva dopo la rotatoria che abbiamo messo provvisoria vedete che c'è stato l'inizio delle opere previste vedete che calo brusco e attualmente abbiamo un andamento medio che è al di sotto dei 50 km poi c'è sempre qualche punta di qualcuno che corre in velocità questa era la media prima vedete nelle varie ore della giornata e quindi una velocità che andava mediamente sopra i 50 km orari e girava tra i 50 e i 60 e i 65 questa è la media tracciata dopo la rotatoria decisamente sotto i 50 km quindi potremmo dire che in quel punto sia per l'attraversamento sia per la moderazione del traffico la rotatoria sta svolgendo ma comunque continueremo a monitorarlo perché non è che vogliamo fare dei ragionamenti in modo che ci sia questa partecipazione più ampia ripeto questi sono i dati per quanto ci riguarda che il fatto che una parte di cittadini si ritenga penalizzata dall'intervento possiamo capire quelle che possono essere gli interessi dei privati però d'altra parte non possono condizionare la totalità di tutti gli altri utenti stradali e soprattutto la sicurezza collettiva e quindi credo che noi abbiamo cercato attraverso il dialogo anche di farlo capire ma se c'è un principio di fondo in cui si dice no alla rotatoria chiaramente abbiamo voluto documentare anche sperimentando e anche andando a monitorare quello che succede Terminato Assessore Per cui concludo se i risultati che abbiamo visto continueranno in quella direzione presumo che poi quella rotatoria verrà confermata Grazie Assessore Prego Consigliere PC Grazie Presidente Grazie Assessore per la lunga articolata esaustiva risposta e apro con una chiosa che riprende la sua come dire la sua frase finale e io auspico invece che non die risultati sperati così come auspicano assieme a me 600 cittadini di Pordenone allora io so che c'è stata c'è stato un grande lavoro da parte sua un tentativo di mediazione importante so altrettanto però che si è come dire recuperato un po' in ritardo almeno così mi è stato detto allora quando si opera giusto c'è la sicurezza prima di tutto e quindi la sicurezza di tutti quanti i cittadini ma anche di quelli che abitano lì e che in questo momento sono passata ieri tornando indietro e hanno messo fuori uno striscione mi pare di capire allora io non so perché non sono un tecnico non sono architetto e non sono un esperto immagino che quella rotatoria abbia tutte le regole anche se devo dire segua tutte le regole anche se invece devo dire la verità che quando passo di lì ho come l'impressione come peraltro da altre parti che sia un tantino come dire un po' costretta un po' un po' ristretta ecco allora detto questo dico che inizialmente lei io ho chiesto e mi dice se continuerà a funzionare così la rotatoria c'è verrà magari modificata c'è e resta e quindi si mettono il cuore in pace tutti gli altri gli interessi dei privati ai quali faceva riferimento lei sono tutti uguali dei privati che abitano lì e di quelli che hanno ottenuto dei cittadini che passano di là che hanno il diritto di avere esattamente come quelli che abitano lì la stessa sicurezza c'è un aspetto però i cittadini che abitano lì si sono trovati stravolta una situazione che loro utilizzavano da molto tempo e lei sa a cosa mi riferisco e mi riferisco al discorso dei parcheggi e della fruibilità sull'aspetto del verde beh insomma mi pare che il verde a parte quella barriera frangi rumore venga relegato nella zona vicino alla ferrovia no perché mi insegnate voi io ripeto non sono un tecnico che per tot che si costruisce è prevista una zona verde è stata relegata vicino alla ferrovia ma piantiamo alberi sotto la ferrovia c'è qualcuno che porta i bambini a giocare a farli giocare sotto la ferrovia non mi pare un'ultima questione un'ultima questione devo dire se la anzi due la circoscrizione sono sempre più convinta della mia posizione di quella del mio gruppo che sono come dire del tutto inutili perché la circoscrizione non si è ricordata di dire ma quanta gente abita qua ma dove viene sta rotatoria viene qua è stato chiamato qualcuno in circoscrizione no si sono mossi i cittadini hanno raccolto le firme e quindi il parere della circoscrizione di persone che magari lì nemmeno ci abitano e nemmeno ci passano come evidente sta a dimostrare che è del tutto inutile inutile per l'ennesima volta perché sa io abito a Valenoncello sì come c'è la presidente vostra ok allora non c'è né mio né tuo né suo sto semplicemente dicendo che la circoscrizione lei non può dire che la circoscrizione ha dato il parere favorevole e quindi va bene così no l'ha detto prima è passato in circoscrizione e nessuno ha detto niente e quindi questo non significa proprio un bel niente aspetto altro aspetto che mi è stato riferito allora io capisco che l'amministrazione ha un ruolo di come dire di congiungimento con il territorio i consiglieri comunali gli assessori lei era consigliere comunale quindi sa bene come funziona ma in queste riunioni che poi vengono tenute assieme a voi anche da quelli che sono i tecnici è opportuno spiegare se per caso non lo sanno che l'educazione è dovuta anche dai tecnici nei confronti dei cittadini perché mi è giunta più di una volta voce di male prese di posizione da parte del mobility manager nei confronti di persone anche anziane che avevano la volontà e la voglia di capire e la seconda volta che assisto non me ne voglia lei assessore ad una situazione dove vengono coinvolti direttamente i cittadini la prima volta sul discorso dell'aumento dei parcheggi dove in un mezzo ad un vespaio avete parlato per un'ora di quali erano i vostri obiettivi e poi siete andati per la vostra strada ho come l'impressione che questa volta si stia ripetendo esattamente la stessa cosa dell'altra volta o di molte altre volte ma io ho solo questi due esempi da portare non me ne ricordo altri non può essere via Capuccini mi suggerisce il collega però non ho seguito nel dettaglio non può essere che di fronte a questo una proposta che vi è stata consegnata il 6 maggio a seguito poi di un incontro del 19 e l'ultimo credo del 3 di giugno formalmente formalmente visto che è stata protocollata non sia stata data una risposta datela mettete nero su bianco scrivete questo non va bene questo non va bene questo non va bene o meglio ancora dite non ci interessa noi abbiamo le nostre idee abbiamo previsto di fare questo tipo di come dire sistemazione di via Udine e vi piaccia o non vi piaccia questa sarà la nostra posizione credo che però i cittadini di Pordenone al di là di quelli che sono gli aspetti grazie presidente concludo al di là di quelli che sono gli aspetti che voi dovete tutelare meritino ascolto e rispetto grazie grazie consigliere bene è terminato il tempo dedicato alle interrogazioni passiamo ora alle deliberazioni allora proposte di deliberazione numero 25 2014 ratifica e delibera dall'aggiunta comunale numero 118 del 24 giugno 2014 avente ad oggetto variazione di bilancio per spese di investimento la parola all'assessore Mazzer prego allora ci troviamo di fronte a una cosa buona positiva che è il Pordenone il prossimo anno giocherà in Lega Pro significa che però noi abbiamo uno stadio il vecchio Bottecchia che ha bisogno di alcune di alcuni adattamenti che vengono richieste e dalla Lega Professionisti e per motivi di sicurezza dal questore della città noi abbiamo fatto già una delibera il 13 giugno 2014 dove è stata effettuata una ricognizione generale di quali sono gli interventi complessivamente che sono necessari per giocare degnitosamente su quel campo in Lega Professionisti e questo progetto aumentava guardo l'assessore Moro a 650 620 620 mila euro problema che in situazioni di patto di stabilità era un problema non indifferente da affrontare non perché non avessimo avuto le risorse da investire ma proprio perché il patto di stabilità ci limita negli investimenti che noi possiamo fare quindi nelle spese che noi possiamo andare a fare successivamente il 13 giugno no il 24 giugno quindi con scadenze anche abbastanza brevi devo dire la verità quindi con tempistiche abbastanza brevi è stata accolta la proposta della società sportiva Pordenone Calcio che si dichiara disponibile a fare lei alcuni interventi quelli più essenziali diciamo per rendere idoneo il campo di calcio che ammontano complessivamente 280 mila euro e questi investimenti possono poi essere corrisposti gradualmente in funzione anche dei limiti del patto di stabilità dalle casse comunali nei confronti della società stessa quindi la società anticipa i lavori e il comune che copre questi 280 mila euro di spesa che li ha coperti con una variazione di bilancio e per questo siamo oggi in ratifica qui in consiglio comunale li corrisponderà con quattro rate prevediamo di 70 mila euro ogni rata quindi per quattro anni successivi ovviamente c'è l'accordo anche su chi farà il finanziamento che sono delle banche che io non conosco ma non credo che ci riguardi neanche tanto chi deve intervenire recentemente proprio venerdì scorso noi approviamo un progetto l'ultimo progetto proprio esecutivo diciamo che può dare il via ai lavori che consente di fare degli interventi io vi riassumo in breve poi l'assessore eventualmente può entrare più nel particolare perché lui ovviamente ha partecipato alle riunioni e col questore e con la con la lega professionisti e con la società e quindi l'ha presentata lui questa proposta in giunto è il grado di illustrarla certamente meglio di me ma la sostanza è questa noi facciamo degli interventi sulle biglietterie sulle entrate facciamo degli interventi sulle recinzioni attualmente definiamo una disponibilità di dello stadio che è di tribuna nord settore locale sono mille persone che può contenere tribuna nord settore ospiti sono 900 persone e la sud coperta sono 680 persone nell'ambito di queste sistemazioni noi rinunciamo anche a 200 posti quelli che sono più vicini tra le tifoserie avverse quelle locali e quelle ospiti proprio per creare su indicazione ovviamente del questore una barriera di sicurezza nel caso degli incontri dove ci fossero qualche problema di questo tipo con questo intervento facciamo anche tutto un intervento di videoserveglianza che viene richiesto con telecamere che sono in grado proprio di illuminare i volti degli spettatori se ce ne fosse necessità inoltre utilizziamo anche e qui abbiamo fatto un'operazione anche di risparmio se vogliamo utilizziamo le risorse che avevamo in particolare il prefabbricato che era posizionato per gli uffici dell'ATAP provvisori presso la stazione delle Corriere prendiamo quel prefabbricato e lo portiamo al bottecchia utilizzandolo come sala stampa anche questa è una delle richieste che la federazione fa per completare gli interventi diciamo di idoneità del campo manca l'ultimo intervento che riguarda l'illuminazione pubblica ancora non l'abbiamo affrontato speriamo che magari anche nel corso dell'anno gli incontri che ci sono continuamente è stato ragione possano in qualche maniera ribellare alcuni budget di investimento per quel che riguarda gli investimenti e magari vediamo lì se possiamo fare qualcosa di ancora meglio rispetto a quello che facciamo adesso con risorse limitate perché un adeguamento di 280 mila euro significa andare un po' in economia a risparmio questa operazione l'abbiamo fatto con i poteri della giunta e portando in ratifica poi la delibera che ci consente di fare questa variazione di bilancio per 280 mila euro complessivi non so se l'assessore vuole aggiungere qualcosa io credo di aver sostanzialmente riepilogato qual è l'azione e perché siamo in ratifica oggi di questa variazione di bilancio sì volevo semplicemente integrare spiegando velocemente come siamo arrivati alla decisione di affidare i lavori alla Pordenone Calcio come ha detto giustamente l'assessore Mazzer la previsione che noi abbiamo comunque fatto a prescindere dal poi la possibilità reale di realizzarla era di 620 mila euro il lavoro completo che comprendeva sia opere riferite alla possibilità effettiva di giocare cioè realizzazione all'interno degli spazi del campo di calcio opere che si riferivano a richieste della federazione in particolare per esigenze di riprese televisive e opere che si riferivano a tutto l'aspetto della sicurezza noi quando abbiamo deliberato il 13 di giugno la realizzazione di queste opere chiaramente abbiamo fatto riferimento anche ai vincoli del patto di stabilità questo significa che non era un problema di disponibilità finanziarie in quanto le disponibilità finanziarie del comune di Pordenone erano tali da poter realizzare queste come altre opere che purtroppo oggi invece sono bloccate dal patto di stabilità a seguito di questo fatto e dell'esigenza comunque del Pordenone Calcio di iniziare il campionato di potersi iscrivere perché per assurdo non poteva nemmeno chiedere l'utilizzo del campo più vicino regolamentare che è quello di Portogruaro in quanto fuori regione il Pordenone Calcio ha fatto la richiesta al comune di Pordenone di poter realizzare almeno la prima parte di opere quelle più urgenti direttamente per noi l'operazione è stata poi studiata e portata a termine questo cosa significa in buona sostanza che in un primo momento il comune di Pordenone allora per il 2014 il comune di Pordenone non vedrà toccati i limiti del patto di stabilità in quanto l'impegno e la spesa lo realizzerà il Pordenone Calcio tramite un prestito che attiverà noi cominceremo ad accollarci la quota nostra che poi viene suddivisa in 4 anni 70.000 euro all'anno solo dal gennaio del 2015 per cui inciderà per 70.000 euro però nel patto di stabilità del 2015 e verrà spalmata in 4 anni e questo è un primo aspetto da 260 da spendere nel 2014 che ci avrebbero sostanzialmente impedito o vincolato altre altre operazioni dovute al patto di stabilità siamo a 70.000 euro la prima trans nel 2015 l'altro aspetto positivo di questa operazione è che noi dilazioniamo il pagamento in 4 rate senza accollarci neanche un euro di interessi cioè gli interessi li paga la società per cui 280 sarebbero oggi 280 rimangono dilazionati in 4 anni l'ulteriore aspetto positivo è che nel caso in cui i lavori li svolgesse il comune di Pordenone l'IVA perché i 280 sono al netto dell'IVA l'IVA sarebbe a totale carico del comune in quanto il comune non ha possibilità cioè l'IVA è un costo per il comune di Pordenone svolgendo una società che è un RSRL o SPA nel futuro l'IVA non è un costo per la società pertanto noi non ci siamo accollati nemmeno l'onere dell'IVA per cui i 280 sono al netto dell'IVA ma per noi rimangono 280 per cui c'è anche un aspetto positivo rispetto all'aspetto di non accollarci quell'onere che è l'IVA che comunque rimarrebbe un costo per il comune grazie Sessore ci sono richiesti di chiarimenti su questa deliberazione nessuna sì consigliere Cabibbo prego nel momento che si tratta di una variazione di bilancio volevo capire come avviene dove sono state trovate questi finanziamenti finanziamenti chiedo scusa mi sono dimenticato noi abbiamo un avanzo di amministrazione in titolo secondo quindi in investimenti mai utilizzato ancora e una parte di questi di questo avanzo di amministrazione relativo quindi al 2013 lo utilizziamo ora cioè soldi non impegnati nell'anno precedente quindi costituiscono avanzo accertato in sede di consultivo e oggi utilizzato per una parte circa il 50% consigliere Ribetti prego altri richiesti chiarimenti non ce ne sono pertanto dichiaro aperta la discussione prego consigliere Ribetti grazie grazie presidente per una volta fate qualcosa di buono mi sembra il caso di dirlo ma io guardi io per una volta perché io sono sempre critico ve lo dico come sono stato critico e lo ribadisco subito dopo il giorno in cui Pordenone Calcio è stato promosso dove chiesi al sindaco come mai non avesse detto neanche due parole e il sindaco in quella sede mi rispose quasi stizzito perché io voglio fare una festa voglio fare una festa per tutti gli sport pordenonesi voglio fare una festa per la pallacanestro per la pallavolo faremo un'unica grande festa la facciamo quando sindaco è una grande festa perché mi sembra che è unica mi sembra che l'unica festa che è stata fatta è stata fatta dal Pordenone Calcio anche in quella sede anche in quel chiedo scusa andato? no no ah ho capito comunque quando dico che almeno una cosa avete fatto è perché questo significa essere veramente dalla parte della città ma adesso a prescindere dalle simpatie non perché il calcio meriti più di altri sport attenzione avessimo avuto un qualsiasi altro sport della pallacanestro come avevamo tempo fa la pallavolo perché come ho detto più volte il mio modo di vedere lo sport lo sport è qualcosa che a parte unire tante persone e raccogliere tante passioni ma è anche qualcosa che dà lustro alla città soprattutto più si sale di categoria dà visibilità attira gente lei prima ricordava i motivi di ordine pubblico ci sono anche altri motivi perché quando più si sale ripeto di categoria più persone vengono a vedere Pordenone si rendono conto cosa può essere non fosse altro per il tempo della partita magari di passarsi due o tre ore in giro per la città andarsi a prendere un caffè girare rendersi conto di quella che è una città quindi è giusto il mio modo di vedere che l'amministrazione cerchi cerchi di stare vicina anche ripeto a quegli imprenditori che magari ci mettono prima prima di tutto per passione dei soldi di tasca loro per questo assessore Moro quando lei diceva nel suo intervento nel suo conto di positivo c'è che non paghiamo gli interessi che si ossorbiscono la società che non paghiamo l'iva ci sta ci sta tutto avete messo mano al portafoglio finalmente magari non è tanto bello da sentirlo perché ripeto ci sono dei imprenditori che ci mettono dei soldi sarebbe bello che come contribuite con favore a riempirci di cattedrali nel deserto museali almeno lo fate per qualcosa che a mio modo di vedere unisce altrettanto le persone e arricchisce di altre culture nel senso che vengono altre persone arricchisce di confronto con gli altri quindi benvenga per una volta avete fatto qualcosa di buono e ho il dubbio che non l'abbiate fatta però con consapevolezza mi passi la battuta del senso Le Mansi grazie consigliere Ribetti bene nessun altro nessun altro consigliere Manzon prego grazie presidente colleghi l'intervento è naturalmente a rinforzo dell'azione in questo caso mi trovo d'accordo con il consigliere Ribetti nonostante gli attriti iniziali però sicuramente l'iniziativa io trovo corretto poiché l'amministrazione segua nelle sue evoluzioni le attività sportive della città anche quando queste diventano onerose come in questo caso sappiamo che è un sacrificio per la città e va curato nella maniera più opportuna ecco facendo sicuramente riferimento alle disponibilità che ci sono all'interno degli spazi del bilancio e quindi la scelta mi trovo a concorde in ogni caso si tratta di una piccola eccellenza per la città ed è importante che abbia la giusta importanza nelle valutazioni e amministrazione però ci terrei a segnalare il fatto che questo sforzo dell'amministrazione questo sforzo economico dell'amministrazione attento a una delle eccellenze della città non faccia passare in secondo piano tutte quelle che sono le attività delle associazioni sportive non venga a mancare l'attenzione per tutto quello che è sport in città che non sia calcio maschile ecco questa è una delle questioni importanti che vorrei porre perché in ogni caso sappiamo che una delle insomma io metto insieme nonostante le varie discussioni che abbiamo portato avanti qui in consiglio cultura e sport sono uno degli elementi che fa crescere in una città quindi l'importanza che noi diamo alla cultura l'importanza che noi diamo allo sport deve essere sicuramente tenuta in grande considerazione quindi io ritengo che sia importante ricordare all'amministrazione che si mantenga un grande interesse per tutto quello che è anche l'attività non agonistica ecco Pordenone si è sempre schierata a favore di un'attenzione per lo sport non prevalentemente agonistico e quindi si tenga un livello di attenzione alto per tutte le società sportive si ragioni in modo tale che questo sia un sacrificio ma che questo sacrificio non sia l'unico che facciamo ma sia orientato poi a inseguire seguire tutte le avventure sportive della città e si consideri che Pordenone è città ricchissima ecco di attività sportive e che quindi anche l'attenzione per tutte quelle che sono le strutture non venga considerata privilegio ma venga considerata un'ottimizzazione del patrimonio di strutture della città ecco si mette in evidenza anche il fatto che il potenziamento ad esempio dell'impianto mi pare che era stato ricordato in commissione l'impianto di illuminazione va anche a favore dell'attività ciclistica del velodromo quindi non ci si dimentichi che il Bottecchia diventa un piccolo piccolo gioiello per la città ma lo sia anche per tutte le altre attività sportive che vi possono essere svolte che quindi non venga ritenuto un tempio chiuso ma vada considerato come una struttura da utilizzare e da rendere il più possibile disponibile per tutto quello che di piacevole e di piacevolmente sportivo si può sviluppare in città quindi un'attenzione che non sia esclusiva ma che sia consapevole dell'importanza ma che sia anche attenta a tutto ciò che gira intorno alla Pordenone sportiva ecco non dimentichiamoci perché ci siamo sempre mossi così io spero che questa sia ancora l'intenzione della nostra amministrazione grazie grazie consigliere consigliere Cabibo prego grazie presidente non che il consigliere Manzon non sia stato in passato un collega moderato e apprezzato dal sottoscritto però questa volta veramente mi ha tolto le parole di bocca e quindi lo ringrazio per l'intervento che ha fatto perché volevo anch'io sottolineare il fatto che naturalmente salutiamo favorevolmente questo intervento e siamo tutti orgogliosi e contenti che la squadra di calcio della nostra città porti in alto il nome dell'intera città e quindi che lo stadio Bottecchia avesse bisogno di interventi anche a prescindere diciamo da questo salto di categoria insomma mi pareva anche abbastanza evidente e da anni l'amministrazione che voi state proseguendo aveva lanciato l'idea di fare dei lavori che però non sono mai stati non sono mai stati fatti però ecco è vero che non dobbiamo assolutamente dimenticare lo sport dilettantistico a tutti i livelli di tutti i tipi di tutti i tipi di sport in modo particolare per quanto riguarda il calcio credo che la città di Pordenone ha diverse squadre diverse scuole calcio che meritano l'attenzione del comune ma non tanto per i risultati di tipo sportivo che possono essere più o meno significativi ma perché e lo dicevo anche in sede di discussione di bilancio previsionale quando ci siamo resi conto leggendo appunto le pieghe del bilancio che nero su bianco questa amministrazione non aveva previsto alcun tipo di finanziamento per le società sportive per quest'anno non so se su questo l'amministrazione è tornata dando diciamo dei contributi o prevedendo di dare dei contributi ma mi ricordo di aver fatto un intervento molto preciso su questo perché a bilancio previsionale non erano previsti contributi per le società sportive perché in quella sede e qui lo ribadisco ci tengo a precisare che lo sport è la prima forma di cultura soprattutto se guardiamo alle giovani generazioni e se guardiamo anche all'impegno delle famiglie con figli che sempre di più ormai frequentano gli ambienti sportivi proprio come forma non soltanto di miglioramento della salute psicofisica ma proprio anche come forma di educazione quindi lo sport è sempre più importante lo è per la nostra comunità lo è per le nostre famiglie su questo il comune di Pordenone si deve si deve spendere garantendo quindi chiaramente i finanziamenti straordinari ma garantendo anche la possibilità di accedere a questo a tutti i tipi di sport da parte delle famiglie perché guardate il contributo che viene dato alle associazioni sportive non è dato soltanto a chi queste associazioni sportive le amministra è un contributo che indirettamente va a vantaggio della società e delle famiglie perché se le società hanno la possibilità di avere un contributo in termini economici o anche in termini di lavori nella manutenzione ad esempio dei campi dei palazzetti dei luoghi in cui si svolgono le attività sportive questo incide anche intanto su una qualità del servizio che viene offerto ma anche sulla possibilità di chiedere alle famiglie un impegno economico meno elevato proprio perché i costi vengono affrontati con l'aiuto del comune perché ci sono delle situazioni che francamente sono abbastanza incresciose ne dico una ma una per tutte il campetto che viene il campetto comunale del cosiddetto quartiere africano a torre torre bassa quello che è sulla strada dove c'è tutte le strade via Libia via Eritrea eccetera via Musile ecco quello già solo passando dalla strada si vede che è un campo di patate si vede che non c'è una rete ben sistemata eccetera allora dico le strutture ci sono ma le strutture però bisogna anche un attimo mantenerle e non richiedono 280 mila euro credo che con un po' di impegno alcune cose si possano fare così come fa anche piacere sentire che non ci sono state sottrazioni di posta all'interno del bilancio per reperire questo denaro da spendere per lo stadio bottecchia però allora ecco che il comune di Pordenone fortunatamente dato l'avanzo di bilancio che ha è vero che buona parte dei milioni di euro di avanzo di bilancio sono vincolati e quindi non sono di spesa pronta da sostenere però ecco sentire che il comune di Pordenone non ha i soldi per verniciare le aule scolastiche e ha soltanto i soldi per i barattoli di vernice francamente lascia un po' interdetti allora le risorse ci sono si possono prendere si possono spendere e a volte si può fare anche senza spendere quella delle aule scolastiche dico una cosa vado un attimo fuori tema la si può realizzare anche attraverso la possibilità di utilizzare il lavoro cosiddetto di pubblica utilità ad esempio le persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità sociale come le guide in stato di ebrezza come altri tipi di lavoro potrebbero fare un lavoro che non richiede la laurea o una perizia tecnica particolare come quella per esempio di pittolare le aule di una scuola e quindi anche con costi che non sarebbero a carico del comune ecco quindi l'invito appunto ribadendo anche quello che ha detto il consigliere Manzoni è quindi quello di avere uno sguardo ampio e di avere anche uno sguardo che va oltre l'immediato il momento difficile che viviamo e i pati di stabilità che purtroppo ci vincolano grazie consigliere consigliere Piva prego grazie presidente non è facile trovare termini che possono essere diversi da quelli che hanno utilizzato adesso tutti i colleghi consiglieri questa sera perché diciamo che il contributo che viene dato al portone calcio è un qualcosa che rientra in una iniziativa che l'amministrazione comunale deve tenere ben presente e non solo nel calcio ma in tutte le associazioni sportive perché sono effettivamente diciamo un punto di riferimento dove poter far crescere i nostri ragazzi con i dovuti diciamo insegnamenti che possano avvicinarli sia allo sport che anche alla vita in definitiva pertanto consideriamo questo tipo di iniziativa che prende l'amministrazione come un qualcosa che vada a crescere e determinare quasi una svolta nuova per quello che riguarda le attività sportive e le attività diciamo che sono tante perché le associazioni sono tante quindi bisogna valutarle una per una magari per capire chi più o chi meno si qualifica in questa iniziativa ma tornando al concetto del centro sportivo Bottecchia e lì l'amministrazione comunale deve capire una cosa che è fondamentale non è uno stadio non è un velodromo non è un campo da teni non è un campo di atletico ma è una diciamo una piccola cittadella dello sport che dovrebbe diventare obbligatorio portare tutti i ragazzini in qualsiasi disciplina a operare a essere attivi all'interno in maniera che possano utilizzare e far crescere in centro Pordenone un qualcosa di importante perché quante città possono dire abbiamo una cittadella dello sport in centro città non molti quindi credo che l'operato che noi dovremo diciamo in qualche modo portare avanti è proprio quello di cercare di trovare questo percorso che permetta a chiunque voglia fare un'attività di recarsi sul posto e trovare accoglimento e non chiusure anche preconcette qualche volta le strutture ci sono e vanno utilizzate pertanto io prego l'amministrazione che abbia un occhio di riguardo verso queste iniziative grazie 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 consigliere consigliere Tavella prego grazie presidente allora non mi dilungo ancora con tutte le le questioni riguardanti lo stadio gli ampliamenti poi mi dite che sono di parte quindi quindi chiaramente ma io vorrei dirvi no che non si vive di solo pallone ma ci sono anche anche altri altri sport non vado non vado sindaco non vado sull'automobilismo non vado sull'automobilismo anche se potreste fare molto però mentre ascoltavo l'intervento dei colleghi mi è venuto in mente qualcosa dove Renzo prendi nota di queste cose che sto dicendo perché potremmo fare al contrario di quello che una volta facevano colgo la palla al balzo dell'assist del sindaco che pensava che io domandassi un autodromo a Pordenone in realtà quello che qua già qualcuno si preoccupa in realtà quello che dovremmo pensare in ottica di sicurezza stradale io prima non potevo intervenire su quello che ha raccontato l'assessore Zille ma ho consegnato il fogliettino alla Mara sulla rotonda perché avrei un camion rimorchio di cose da dire ma nell'ottica ripeto della sicurezza stradale noi da anni 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 nel nostro territorio per quanto riguarda la tutela dei ciclisti e la tutela dei giovani automobilisti non facciamo nulla non bisogna pensare che noi autoscuole facciamo il nostro perché non basta assolutamente nulla c'è da fare dell'altro esistono in Italia ma esistono all'estero dei centri di guida sicura noi abbiamo un'area a Pordenone dove da poco avete partecipato in molti di voi Martina ha fatto un intervento eccellente all'inaugurazione della nuova motorizzazione civile ma quell'area pensateci si può prestare per trovare una zona perché c'è sulla quale predisporre un'area un circuito se parlo di circuito non fraintendetemi non c'è l'esigenza di fare una corsa automobilistica sull'asfalto non me ne frega niente a me sia come appassionato di motori sia come delegato regionale della federazione automobilistica non per questo ma per altri fini che la nostra federazione vuole perseguire riguardo la sicurezza stradale e cioè troviamo un tracciato troviamo un percorso non basta non servono ettari ettari 30 40 50 ne bastano meno ad esempio la motorizzazione civile per fare gli esami di guida delle moto deve andare distante 800 metri quando magari forse di fronte si può fare un'area sulla quale fai la prima fase la seconda fase degli esami di guida delle moto delle auto dei camion sempre sulla stessa area prevedi un circuito dove possiamo portare i giovani che devono patentarsi a fare gli esperimenti con i cali di aderenza con delle zone bagnate con delle zone che si possono tranquillamente fare addirittura e il suggerimento mio qual è facciamo il contrario di come facevano una volta e cioè anni e anni fa vestivano di guida sicura per poi fare l'autodromo fai il contrario fai finta di fare una pista per fare le corse ma ti fai aiutare dal coni per avere un sostegno finanziario a costruire quest'opera prova a vedere l'automobile club d'Italia se ha delle risorse e se lo dico non lo butto a caso naturalmente per poter perseguire questo obiettivo che fa parte della mission dell'automobile club d'Italia e mettici pure anche la federazione internazionale dell'automobile di cui sai che faccio parte e perciò questo insieme di elementi ti porta a costruire questa chiama la pista chiama la tracciato ma dove noi possiamo portare dei ragazzi che stanno facendo la patente a far capire cosa vuol dire quando l'automobile perde aderenza e cosa deve fare il ragazzo perché spiegarglielo a voce in aula è una cosa farlo provare è un'altra noi siamo come autoscuola affiliati all'ACI per fare queste azioni ma per fare degli esperimenti con i ragazzi dobbiamo portarli a Vallelunga 500 km da Pordenone e nonostante gli paghiamo il viaggio il vitto e l'alloggio comunque i ragazzi non vanno fino là però poi sulla strada rischiano di farsi del male quindi se vogliamo è un messaggio che lancio che c'entra poco con la delibera dello stadio Bottecchia ma come ha già detto in passato non presento più mozioni che rischio poi di discutere col prossimo sindaco preferisco parlare di altri argomenti adesso e magari dare gli spunti a voi per poter fare qualcosa per la nostra città perché come ho detto in commissione l'altra volta e l'ha colta al valso la palla Francesca Cardin noi non siamo qui per fare opposizione almeno per quello che mi riguarda ma noi siamo dei consiglieri comunali che vogliamo consigliare siamo una minoranza che vuole consigliare il comune se poi dopo l'amministrazione non segue non ascolta le nostre proposte peccato vuol dire che le faremo noi più avanti però pensate perché uno dei miei punti fissi per la missione che ho qui è quello sulla sicurezza stradale gli attraversamenti pedonali che avevo chiesto a suo tempo l'assessore Zille che mi rispose che stiamo monitorando era settembre settembre sarà fra poco se state ancora monitorando comunque tanti attraversamenti pedonali hanno ancora sulla destra e sulla sinistra dei parcheggi blu che sono assolutamente pericolosi e mettiamo a rischio sempre i nostri cittadini perdonatemi andiamo a fare delle rotonde fagiolo perché ci sono delle rotonde a forma di fagiolo rotonde inutili come quelle che abbiamo tra via Villanova e via deledda io devo capire con che piede vi siete alzati quella mattina per fare quella delibera ci soffermiamo su una rotonda come quella di prima e non pensiamo a mettere gli stop alle piste ciclabili perché prima o poi un'automobile investirà un ciclista e lo uccide non vorrei che dovessimo un giorno discutere di questo io sono un rompiscatole perché non posso usare la parola rompiballe qui dentro e continuerò a fare questa a rompere le scatole per fare queste operazioni che sono importanti per tutti i nostri cittadini a prescindere da quale nome segnano quando vanno nella loro urna elettorale grazie grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente intervengo per sottolineare un fatto cioè che questo consiglio questa sera su questa delibera si è espresso seppur con articolazioni diverse pressoché all'unanimità su quanto è stato su quanto è stato deciso che noi andremo a ratificare è un fatto positivo ma è un fatto che dà anche delle linee di indirizzo a questa amministrazione perché penso che alcune sottolineature che sono state fatte vadano proprio nell'ottica di valorizzare al massimo questa scelta che è stata operata e penso che gli interventi un po' di tutti i consiglieri anche se magari sottolineo quello di qualcuno associo insieme Mazzone e Cabibbo perché mi pare che il fatto di avere tutti l'attenzione non solo al calcio che è lo sport principe che fa da trainer che fa da riferimento poi siamo in un momento particolare che stiamo vivendo l'epopea mondiale per cui tanto più è uno sport sotto i riflettori però penso che tutte le altre discipline abbiano giustamente necessità di avere un loro spazio e questo aspetto che riguarda anche le associazioni che stanno dietro mi pare sia un aspetto che vado opportunamente sottolineato come veniva detto precedentemente che aiutare le associazioni significa aiutare indirettamente o direttamente a seconda anche le famiglie e soprattutto in un momento in cui c'è una crisi nel mondo del volontariato e qui abbiamo una vasta rappresentazione di un mondo del volontariato cosa significa e cosa serve però sappiamo che è un mondo che in qualche modo sta soffrendo in questo momento penso che non dobbiamo far mancare l'appoggio come amministrazione comunale per cui sport e cultura sono due cose che vanno di pari passo se le associazioni che fanno sport sanno anche trasmettere cultura cioè sanno trasmettere un modo comportamentale e un modo per socializzare mi è piaciuta l'affermazione che ha fatto il consigliere Piva riguardo alla cittadella dello sport cosa sulla quale concordiamo tutti perché quello è un ambito che è sempre stato riconosciuto dalla città come luogo di sport e di svago ma ha una caratteristica che non è fatto in periferia è fatto in centro la città per cui è un aspetto che va ulteriormente valorizzato anche se gli spazi magari non possono consentire altre forme di ampliamento però è un cuore della città è un cuore pulsante è un cuore di riferimento nel quale i giovani e non sui giovani si possono ritrovare però io vorrei chiudere con altri due aspetti uno anche toccato dal consigliere Tavella all'interno dello sport all'interno di queste manifestazioni si può fare cultura si può fare crescita la si fa in vari modi lo si fa anche educando dicevo prima e pertanto la cosa che mi è piaciuta di questo tipo di iniziativa è che questo metodo che è stato seguito potrebbe essere un metodo seguito anche in altre circostanze di fronte a una situazione di urgenza si è trovata la chiave per rispondere all'urgenza allora mi chiedo di fronte ad altri tipi di situazioni possiamo percorrere questo tipo di strada secondo me questo è il nucleo fondamentale di questo tipo di delibera si è riusciti a trovare da un lato chi è anticipato e dall'altro la possibilità che il comune intervenga con i tempi e con i modi che gli sono consoli ecco questo mi pare l'aspetto principale che va sottolineato che forse va anche imitato per il futuro per altri tipi di iniziative iniziative nelle quali potrebbe trovarsi anche il consigliere Tavella per quello che ha detto ecco per cui io non vado oltre tante cose sono state dette è inutile ripeterle visto che sono cose positive vanno opportunamente esaltate ho cercato di sottolineare quelle che ritenevo importanti ringrazio anche tutti i consiglieri che sono intervenuti anche se compito l'amministrazione di ringraziarli ma io mi sento personalmente di farlo perché è un contributo importante che diamo tutti insieme alla città ed è anche secondo me e lo ribadisco un esempio che dovremmo studiare le modalità per seguirlo anche in altri tipi di interventi che possono avere l'esigenza dell'urgenza e della necessità collettiva grazie grazie consigliere consigliere Dalmas prego buongiorno buonasera visto che dice che dobbiamo studiare interessante questa cosa che cosa dobbiamo studiare io non lo so dobbiamo studiare che cosa c'è questo coro generale per cui insomma bisogna sistemare fare brava l'amministrazione che fa reperisce questi soldi per adeguare il nostro stadio quella che è stata un'evenienza anzi un'urgenza dettata dal fatto che c'è stata questo importante significativo risultato della città della sua squadra della sua squadra e noi ci siamo tutti contenti ed orgogliosi di questo lei ci dice che questi 280 mila euro che la prima trans dei 600 che serviranno li prendiamo dall'avanzo di amministrazione dei fondi liberi non vincolati ma allora allora titolo secondo investimenti sullo sport non fondi vincolati allora sa su questo dovremmo cominciare a parlare un po' di più giusto perché se lei mi dice che sono i fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione devono essere mi sembra che la corte di conti dica fondi appunto non vincolati quindi utilizzabili su obiettivi indicati comunque dice dal legislatore io sono favorevole all'intervento perché sono come tutti chi non lo sarebbe no? è possibile sottrarsi dal coro? no non lo fa nessuno c'è qualcuno che esce dal coro in Italia in questo momento? no per cui riusciamo a pensare che anche Renzi sia un messia che ci è venuto a salvare dalle difficoltà che abbiamo quindi oggi prendiamo e dobbiamo assolvere questa necessità che è qui davanti quindi io non ho esplorato quindi prendo per buono il suggerimento di Freschi forse un po' distratto non ho fatto esattamente il mio dovere non sono andato a vedere esattamente come utilizziamo i fondi l'avanzo di amministrazione evidentemente ci sarà un parere di regolarità contabile e quindi funzionare assolutamente vi dà la legittimità dell'intervento e su questo non discuto però mi permetta illustre primo cittadino mi permetta di richiamarla su una cosa e quando succedono queste cose perché ricorriamo all'avanzo di amministrazione perché ricorriamo l'avanzo di amministrazione perché vuol dire che su un intervento di 280 mila euro mi dica che voi non avete la forza politica per chiederli alla regione Friuli Venezia Giulia non mi pare che a Udine fatti gli opportuni distinguo e individuate le opportune correzioni lì c'è una squadra che sta in serie A noi siamo oggi in serie C serie C no? poi fategli fare questa pista di sicura veloce per la tavella perché se no poveretto gli dobbiamo gli dobbiamo io ricordo che si agitava già col villaggio del fanciullo per quella cosa c'è qualcuno che voleva trasformare il villaggio del fanciullo in una pista non eri tu bene ce n'è un altro quindi un problema quindi signor sindaco si attrezzi perché il problema c'è se dovete rafforzare la maggioranza dovete anche assecondare alcuni desiderata intelligenti che vengono anche dalle opposizioni perché c'è un affare economico su questo caro Tavella perché io allora studiai questa questione c'è effettivamente una possibilità di ingresso di denaro di utenti per questa comunità e non è da sottovalutare quello che dice Tavella allora voi ricorrete all'avanzo di amministrazione ho ancora quanto? 20 secondi 10 secondi e ricorrete all'avanzo di amministrazione non siete andati a prendervi una lira in regione avete vicepresidente non vi tira fuori 280 mila euro era qui prima qui dietro è ricorretta l'avanzo di amministrazione e ci sono vengono distribuiti dei denari in questi giorni 40 milioni di euro alle amministrazioni locali e voi dite che i soldi in più che arriveranno li utilizzeremo forse l'anno successivo per le detrazioni sulla fiscalità immobiliare e fate bilancio ripeto prima di tutti gli altri ma veramente io non capisco è come se vi avessero circondati la vostra maggioranza che governa da Roma a Trieste a Pordenone vi ha detto voi fate con quello che avete non venite a chiedere nulla non venite a chiedere nulla e così potremo estendere il ragionamento ma siccome adesso il tempo scade e una delle cose più fastidiose farsi togliere la parola dal presidente del consiglio il quale non è Renzi è un presidente del consiglio comunale allora è una bravissima persona anzi molto verbata ecco allora chiudo primo credo che questo tipo di interventi si annoverino in quelle che sono gli investimenti di interesse anche eventualmente della regione Fiorezza Giulia perché ci sono figli e figliastri per Pordenone non li fa ma non li fa sotto la vostra amministrazione e guardate bene sotto la vostra amministrazione perché lei doveva farseli dare parte di quei soldi della regione perché sono 600.000 euro una squadra in serie C è un vantaggio per l'intero sistema regionale perché se questo è quello che volevi dire tu caro Freschi e cioè che noi dobbiamo studiare io vi chiedo benissimo studiamo allora studiamo bene dove arrivano questi fondi questo avanzo di amministrazione studiamo quali sono le potenzialità del Pordenone Calcio e se su questo sistema crediamo allora dobbiamo avere la forza di chiedere un investimento anche della regione cosa che voi non fate perché non avete coraggio perché non avete il coraggio di farlo non avete il coraggio di farlo perché la risposta è solo di un certo tipo la signorina Zarina che sta a Trieste vi avrebbe detto di no e quindi questo credo che sia il primo fallimento voi avete preso i soldi dall'avanzo di amministrazione non avete messo i soldi che arriveranno sulle detrazioni immobiliari sulla casa questo è il risultato della vostra amministrazione caro signor sindaco anche se lei oggi mi ha in un certo senso iniziando la seduta con le sue comunicazioni mi ha detto ha detto delle cose non posso leggere quello che suggerisce per ragioni evidenti ragioni di opportunità dire no cioè c'è detto insomma che porterò una città accogliente lo sappiamo insomma che punta di esigenze no 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 ma io ho capito è stato lei è stato è stato è stato assolutamente preciso nella modalità in cui ha riflettuto il corso nulla da dire io sicuramente non la mai l'attaccherò su questo mai l'attaccherò su questo il problema non è nostro il problema è il problema dello Stato una questione molto complessa però siamo stati un'ora e mezza per parlare della gestione di 29 persone le quali sono state qui un giorno poi se ne sono andate sono state accolte da questa che è una città comunque che ha il senso della solidarietà dei rapporti umani a volte anche eccessivamente perché ricordo che ho chiuso guardi ho chiuso c'è stata una retorica una retorica nella città di Pordenone indecente allora quando qui tutti dicevano che noi avremmo costruito le nostre fortune economiche sugli immigrati ve lo ricordate ed erano dagli industriali a tutti dicevano queste cose oggi ci troviamo con circa il 16% della popolazione caro signor sindaco questo dato ve lo do io sono cittadini immigrati e non vorrei che qualcuno le chiedesse di fare quello che sta facendo Bitonci oggi a Padova cioè ha tolto tutti i fondi sulle mediazioni culturali e li ha messe a detrazione delle tasse dei suoi cittadini ci pensi un po' forse potrebbe essere una buona proposta grazie consigliere consigliere Pedicini prego bene io vorrò fare un intervento leggermente diverso no ma su questo fermo restando come ho già detto anche in commissione che l'operazione così come è stata congeniata è buona e andava fatta anche e dimostra quello che abbiamo sempre sostenuto che quei comuni che dicono che hanno i soldi ma non li possono spendere per il patto di stabilità dicono delle bugie perché se i soldi ci sono si possono anche spendere ed è la dimostrazione che si possono spendere se si hanno delle necessità perché questa formula adottata voi dal comune di Pordenone è la stessa che è stata adottata per la sede della motorizzazione civile che è stata prima detto prima che non ha intaccato il patto di stabilità ma anzi ha portato a un risparmio l'amministrazione provinciale e lo stesso vale qui in questo caso che nonostante il patto di stabilità si sia potuto intervenire con 280 mila euro il problema che invece vi voglio porre io vorrei porre all'attenzione dell'intero consiglio comunale è leggermente un altro questa città che vuole ricominciare e vuole puntare al futuro che vuole pensare anche in grande si limita questa sera a parlare dei 280 mila euro degli interventi che sono dovuti perché guarda caso nel interesse e in parte disinteresse di molti la squadra del Pordenone Calcio è andata in Serie C e quindi il militare nel campionato in Serie C prima ha provato ad andare a Portogruaro ad andare da qualche altra parte e poi forza di cose se non vogliamo far emigrare la squadra dobbiamo fare questi lavori ma siamo capaci anche di pensare un po' in grande cominciamo a pensare che il Pordenone Calcio che milita in Serie C svolge le sue partite all'interno di un velodromo che è un impianto nato per il ciclismo e non per il calcio che il calcio è quasi un qualcosa in più che sta avvenendo lì dentro che abbiamo un bellissimo impianto che è proprio il velodromo Bottecchia uno dei pochi esempi che ci sono nel nord Italia che andrebbe valorizzato per quello che c'è e possiamo provare a pensare anche di tirar fuori dal cassetto quel progetto di 20 anni fa allora amministrazione Cardin dove questo consiglio comunale aveva approvato il nuovo stadio per la città di Pordenone ovviamente uno stadio modulare non uno stadio da 20.000 posti partiva con 4.500 posti a sedere e poi poteva crescere negli anni lo aveva ubicato in comina aveva fatto tutta una serie di procedure poi un segreto sempre in comina presso l'area del villaggio del fanciullo allora se vogliamo essere precisi e questo consiglio comunale dopo 5 ore di discussione dopo 5 ore di discussione approvò quel progetto poi un maldestro segretario comunale dell'epoca sbagliò la delibera e la cassa depositi e prestiti revocò il finanziamento di ben 5 miliardi a fondo perduto per il comune di Pordenone che non gli aveva portato né la regione né Bavo Natale ma i fondi per Italia 90 dell'epoca dei mondiali di calcio allora dico queste cose perché già 20 anni fa questo consiglio comunale questa città aveva ragionato sul nuovo stadio di calcio oggi noi non siamo in grado di pensarlo neanche oggi noi non siamo in grado neanche di pensare che forse questa città con la sua squadra in serie C lo ha detto il presidente Lovisage la sera della presentazione della squadra questa città ma non solo con denaro pubblico anche con denaro privato voglio dire abbiamo fatto realizzare dei centri commerciali all'interno di questa città negli anni passati voi pensate oggi tutta la crisi il problema che ha il centro commerciale Meduna che deve fare l'ampliamento ma che non riesce a fare che non sa se fare nonostante che questo consiglio comunale gliel'abbia provato pensate se quella volta il centro Meduna diceva io faccio il nuovo stadio per la città di Pordenone andate a vedere cos'è lo Juventus Stadium di Torino dove all'interno dello stadio c'è anche un centro commerciale e vive tranquillamente e ci fanno anche le partite seriale allora voglio dire poteva essere già quella volta un omaggio a questa città dove si realizzava il centro commerciale e si poteva fare anche il nuovo stadio della città allora ma quello che io mi meraviglio che non riusciamo neanche a pensarle poi dice ma bravo ma non ci sono i soldi quanto costa oggi fare un nuovo stadio ma se neanche lo pensiamo se neanche lo immaginiamo se neanche pensiamo di averlo i soldi non li avremo mai non avremo mai questa possibilità se invece noi oggi ce lo poniamo come obiettivo magari è un'idea non è detto che domani mattina dobbiamo prendere i soldi dall'assistenza comunale e metterla per fare lo stadio ma sto dicendo se almeno ce l'abbiamo nelle nostre prospettive magari qualche volta e forse questa cenerentola di Pordenone con la famosa sperequazione rispetto alla regione magari un domani casualmente ci sono i fondi ma noi abbiamo già un'idea abbiamo già un progetto sappiamo già cosa fare e invece questo neanche lo pensiamo oggi stiamo facendo un adattamento di un vecchio impianto ma non stiamo facendo assolutamente nulla allora io mi sarei aspettato e ve lo dico con molta franchezza che questo consiglio comunale con uno scatto di orgoglio potesse dire questa sera va bene questi soldi li stiamo spendendo perché li dobbiamo spendere ma ci hanno preso quasi alla sprovvista perché non erano programmati nel bilancio fatto qualche mese fa quindi è proprio una cosa improvvisata all'ultimo minuto pentiamo questi 280 anzi ne dobbiamo mettere altri 280 prossimi nel prossimo va bene qualcuno ce li dovrà dare se no ce li dobbiamo mettere perché abbiamo preso un impegno e allora ma cominciamo a pensare in grande cominciamo a pensare che il velodromo botecchia può diventare un vero velodromo ripeto ci sono pochi impianti in alta Italia quindi non è che ce ne sono tantissimi c'è una grande attività ci sono molti appassionati di questo sport potrebbe diventare un impianto di eccellenza ma non abbiamo i soldi per farlo non importa ma intanto possiamo provare a pensarlo e possiamo pensare anche a un nuovo stadio dove lo ubichiamo questo nuovo stadio scusate lo so che la cosa non vi interessa però dove lo ubichiamo il nuovo stadio abbiamo un'area libera pronta dove non abbiamo fatto dove non abbiamo fatto cosa il carcere perché dove non abbiamo realizzato il carcere l'area si è liberata questo sempre questo consiglio comunale ha fatto una variante urbanistica ha individuato un'area ben precisa via Castelfranco a nord di via Castelfranco e doveva ubicarci il nuovo carcere ma il carcere è andato a San Vito bravo ma il buon Cimolai di cui è proprietario non si lamenterà sicuramente perché a fronte a quella volta quando gli abbiamo messo il vincolo su questa area devo dire che le aree vicino che erano agricole sono diventate industriali e quindi ha potuto realizzare i nuovi capannoni sempre questo consiglio comunale ha approvato ha visto i progetti li ha approvati nonché la vecchia fabbrica è diventata tutta zona edificabile quindi voglio dire non gli abbiamo fatto un danno ancora quella volta ma visto che il vincolo l'abbiamo posto su quell'area sarebbe assurdo oggi tornare indietro è un'area che ha come destinazione la possibilità di realizzare anche questo genere di impianti perché non c'era scritto area per il carcere era un'area mi aiuti l'assessore che non mi ricordo più la destinazione è precisa però era di servizi e quindi potremmo utilizzarla allora voglio dire abbiamo già lo strumento urbanistico adeguato abbiamo un'area individuata che era già stata ampiamente compensata proviamo a immaginarci anche di realizzare il nuovo stadio chi lo realizza magari con un'idea nuova così come sta avvenendo in molte parti d'Italia potremmo realizzare un impianto che non è solo per il calcio ma anche per attività sport se noi oggi dobbiamo ospitare qualcosa io vorrei solo ricordare che quando nel 90 ci furono i mondiali di calcio la Spagna che era in zona andò a giocare a Fontanafrede e allora chi seguiva queste cose andò a Fontanafrede a vedersi la partita Pordenone non poteva ospitare neanche una partita di amichevole perché in quel periodo la Spagna era a Udine come luogo di ubicazione ma noi non potevamo ospitare neanche una partita perché era adeguato di più lo stadio il campo di calcio di Fontanafrede perché poi stadio non è è un semplice campo di calcio con una tribuna era sì e ci giocava anche il Pordenone però voglio dire quando quella volta hanno realizzato 40 anni fa quell'impianto del sì c'era di Benedetto come sindaco però doveva costruire un campo di calcio lo fece fare pensando in grande ma senza fare chissà che cosa perché in realtà l'architetto realizzò solamente dei terrapieni una tribuna niente di particolare però quell'impianto era un impianto con tutta una serie di criteri che si era adeguato per determinate partite mentre il nostro no allora concludendo vogliamo uscire da questa logica del giorno per giorno di quello che abbiamo di non sapere dove andare a trovare le nostre risorse cominciamo anche ad avere delle fantasie non vi sto dicendo che dobbiamo metterci i soldi togliendoli da qualcos'altro ma cominciamo a pensare a una nuova Pordenone che abbia anche dei grandi progetti e delle grandi idee cominciamo a pensare anche che oggi possiamo pensare a un futuro in modo diverso da come l'abbiamo pensato fino a ieri possiamo anche non vivere giorno per giorno ma ogni tanto possiamo avere qualche scatto anche di fantasia e visto che questo consiglio comunale in passato determinate azioni le ha fatte ecco che vengono fuori allora deve fare tutto al pubblico e concludo no non deve fare tutto al pubblico signor Sineco accennavo prima l'esempio del centro commerciale Meduna che forse poteva nascere in modo diverso e poteva dare un servizio alla città e realizzare anche il centro commerciale che sarebbe stato qualcosa di innovativo e di nuovo ma penso che forse dobbiamo pensare che alcune opere dobbiamo farle in sinergia con il privato dobbiamo pensare di attrarre anche dei finanziamenti privati su determinate opere certo dobbiamo dare in cambio una ricaduta economica per chi fa questo tipo di investimenti ecco che allora non vogliamo non abbiamo più il carcere non vogliamo più pensare al nuovo al nuovo ospedale ma andremo a costruirne un capannone uno del padiglione scusate non un capannone un padiglione fra poco ma questa città ha bisogno anche di fare uno sforzo di di fantasia se volete o anche forse non oggi supportato da una adeguata copertura economica ma per un futuro sicuramente migliore ecco io vi sforzo vorrei invitarvi a questo quindi condivido e concludo l'intervento dei 280 mila euro di quelli che verranno è il minimo ma questo non basta quell'impianto si chiama non stadio bottecchia ma si chiama velodromo bottecchia perché il bottecchia era un ciclista e non era un calciatore e quindi quel velodromo bottecchia potrà diventare forse un nuovo impianto a fine mese ci sarà una novità il sindaco l'assaggia verrà presentata privatamente non costa niente al comune e in futuro pensiamo anche un nuovo stadio mi è piaciuto il presidente Loviso quando l'ha detto ma forse è il momento di cominciare a pensarci perché così cominceremo a dare a questa città anche un'idea di qualcosa che potremmo avere forse non subito ma almeno nel futuro grazie grazie consigliere consigliere Pasut prego l'opportunità di intervenire per ultimo mi permette di dire che molte cose sono state già dette quindi è inutile è inutile è inutile replicare non avevo l'obiettivo di essere l'ultimo assolutamente allora voteremo questa questa delibera in fiducia perché io personalmente ma questo riguarda solo me non ho ben capito il meccanismo con cui concediamo questi 280 mila euro e in fiducia anche per la società che li avrà in beneficio che vada avanti perché non so chi li metterà se per caso fra poco il podenone calcio al quale io auguro vada non solo in serie C in serie B in serie A insomma ecco ecco no no ma per dire voglio capire voglio capire che questi soldi che noi adesso allargiamo a questa società vadano a buon fine e soprattutto che questa società sia in grado di poi onorare l'impegno che si prende adesso che non se lo ritrovino i cittadini come debito successivo fra qualche tempo domani sicuramente qualcuno dirà signor sindaco io lo dico in pordenonese got to waste noi gas che hai per fare l'illuminazione sulle strade ma i gas che hai per trovare per fare il ballon allora allora l'ho detto così però io ho visto malvolentieri l'altro giorno in qualche occasione dei titoli no che probabilmente la stampa adesso non ce neanche più giustamente si presta a dire non ci sono più soldi non illuminiamo le strade non ci sono più soldi non possiamo fare i lavori pubblici allora non è vero non è vero però è stato è stato è stato detto adesso noi troviamo 280.000 euro per fare giustamente gli onori della squadra di calcio che finalmente finalmente fa luce a questa città di Pordenone fa luce comunque l'illuminazione il sindaco mi affana anche se il Pordenone è calcio dovrebbe fare luce allora io voterò favorevolmente a questa e anche la mia collega consigliera in fiducia a denti stretti nel senso che noi ci rendiamo conto che la città ha bisogno anche di altre cose allora è vero mi dispiace dover dare ragione a Franco ma lo devo dire insomma ecco la regione su questo non è stata molto attenta quindi credo che 280.000 euro la regione avrebbe potuto elargirli al comune di Pordenone per un evento importante come la sua squadra di calcio le opportunità educative collega Cabibo e altri che sono intervenuti le opportunità educative del calcio secondo me ma rimane sempre il mio punto di vista si fermano dopo l'oratorio cioè quando cominciano le squadre ad andare su di categoria ci sono le noti dei lunghi coltelli prima con i genitori poi con la società che vogliono gli sponsor e quindi mi riservo di dire che l'attività calcistica abbia anche un valore no no sono convinto che ce l'ha ma poi vediamo poi in realtà come quando ci sono i soldi che girano io ho visto di persona società io ho visto di persona società che si propongono di dare una mano al comune al sindaco che tirano le giacche al sindaco per avere ognuno per proprio conto la propria piccola luce e siamo sempre in tema di luce no perché uno gestisce una società l'altro vuole la palestra l'altro vuole allora l'educazione se c'è benvenga e io auguro che ci sia perché di educazione c'è bisogno concludo voteremo in fiducia questa a denti stretti questa delibera con l'invito però di avere attenzione anche per le esigenze di tutti i giorni della città perché noi lo citava adesso il collega Pedicini siamo ancora una città priva di fantasia siamo al tracollo di tutto e abbiamo bisogno di slancio di fantasia di inventarsi le cose anche di chiedere alla gente che oltre a imbiancare le stanze le robe ci dia una mano in molte altre cose c'è un sacco di gente che lo può fare l'amministrazione deve avere il coraggio di avanzare queste richieste grazie 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 nessun altro iscritto a parlare pertanto consigliere del ben prego dopo aver sentito l'orientamento sul merito diffuso io penso che la giunta avrà ratificata questa sua delibera dove faceva delle proposte e quindi diciamo sul merito io ho delle osservazioni da fare sul percorso di questa giunta nel senso che la giunta può deliberare al posto del consiglio quando ci sono necessità e urgenza però siccome la giunta ha deliberato verso il 24 di giugno c'è stato un consiglio pochi giorni prima e mi pare subito dopo un altro consiglio comunale quindi io direi che questo argomento poco prima questo argomento comunque poteva andare direttamente in consiglio comunale e avere tutti gli elementi partecipativi che il regolamento prevede e proprio perché nella sostanza del quando la giunta delibera qualcosa come le variazioni di bilancio diciamo che è una eccezione rispetto ai comportamenti che sono normali nessuna discussione col fatto che ci sia la necessità di ammodernare di manutenere di migliorare lo stadio Bottecchia anche perché il Pordenone Calcio ha fatto un passo in avanti ovviamente nulla a questo e non poteva diventare da nessuno che questa alla fine sia fatta con fondi della collettività nulla a questo anche se può essere in un modo graduale quello che mi meraviglia è il fatto della procedura scelta con l'urgenza quando in realtà questo potrebbe essere un'urgenza diluita non sono ovviamente d'accordo con Freschi quando dice avete fatto bene perché bisogna decidere bisogna decidere subito sì si può decidere sul piano politico poi le formalità possono avere il loro percorso corretto sulla delibera sulla delibera in giunta non riterrei che fosse opportuno ma non preparo emendamenti che il punto quarto sia quello che dice regoleremo poi i rapporti con il porderone calcio secondo degli accordi complessivi io avrei capito meglio la delibera della giunta di fare la variazione di bilancio punto e con un atto diverso e successivo stabilire linee di massimo orientamento magari sentito anche il consiglio su come regolarizzare i rapporti perché dico questo perché se andassimo a leggere bene come sicuramente è stato letto bene la parte della legge del 2000 che parla l'ordinamento degli enti locali quando la prospettiva è pluriennale forse su cui questo forse dà il vincolo al fatto che sia più di semplice variazione di bilancio e se così fosse la giunta non avrebbe non avrebbe la possibilità di fare allora io penso che in un'amministrazione comunale bisogna essere amministratori pragmatici e pratici con la delibera che andiamo a ratificare noi per dire diamo un'approvazione al fatto che Pordenone si doti di infrastrutture sportive migliori perché adeguati adeguate rispetto che agli altri sicuramente come ha detto il collega Tavella non di solo calcio vive Pordenone ma c'è anche una tanta altra di attività e allora questo interesse che contingentemente è stato messo adesso penso che sarà anche come si dice declarato messo in evidenza con i limiti Assessore Moro delle disponibilità e degli equilibri perché miracoli non abbiamo ancora imparato a farli anche per tutte le altre istanze dove Pordenone ha uno sport che ha raggiunto livelli importanti ma anche perché no in quella parte in cui lo sport ha bisogno di sostegno perché raggiunga livelli importanti con tutti gli elementi positivi dell'impegno degli atleti per giungere a questo motivo per cui noi voteremo a favore della delibera di questa di questa di questa di questa di questa ratifica e nel frattempo di canzone di voto valutate un po' se quel punto quarto della delibera sia necessario o se possa essere si dice in termini tecnici è spunto ed eventualmente frutto di un atto diverso proprio perché la mia preoccupazione è quella che è un impegno pluriennale degli altri grazie consigliere nessun altro iscritto passiamo pertanto al secondo intervento nessuno iscritto pertanto dichiaro chiuso la discussione e do la parola all'amministrazione se volete prego assessore Moro due veloci chiarimenti due veloci chiarimenti rispetto ad alcuni dubbi che sono emersi durante la discussione e volevo chiarire che il consigliere Pasut chiedeva che ci garantissimo ovviamente rispetto all'esecuzione dei lavori e qui mi leggo anche al consigliere del Ben il successivo atto è esattamente il 119 cioè la delibera 119 che è quella che ha stabilito la convenzione con il Pordenone Calcio per l'esecuzione dei lavori cioè quando noi abbiamo fatto la variazione di bilancio immediatamente dopo abbiamo approvato il cosiddetto successivo atto che è previsto dal punto 4 per cui oggi che approviamo e ratifichiamo in consiglio comunale siamo già a conoscenza di qual era quel successivo atto che noi abbiamo approvato immediatamente che regolamenta i propri rapporti rispetto a questo aggiungo appunto rispetto a questo il fatto che l'impegno del Pordenone Calcio è di eseguire immediatamente i lavori perché è tutto il loro interesse di aver eseguito i lavori entro la fine di luglio per cui il totale dei 280 mila euro saranno eseguiti come lavori direttamente dal Pordenone Calcio subito su tra l'altro un progetto che è stato approvato dalla giunta lo scorso venerdì per cui deve essere seguito e ratificato dalla giunta anche la progettazione noi ovviamente corrisponderemo al Pordenone Calcio in quel rateo di 70 mila euro per 4 anni esattamente il massimo di 280 mila euro cioè nel senso che se il Pordenone Calcio dovesse spendere anche un euro in più noi non corrisponderemo nulla in più e eventualmente se il Pordenone Calcio dovesse spendere di meno siccome corrispondiamo a rendi contazione adegueremo il contributo in funzione della cifra spesa per cui i lavori vengono eseguiti subito e poi pagheremo il dovuto cercherò di essere proprio sintetico però alcune risposte soprattutto dal punto di vista della legittimità amministrativa dell'atto allora perché siamo andati in giunta e non in consiglio visto che il 24 avevamo una delibera di consiglio perché prima di andare in consiglio dobbiamo andare in commissione e quindi i tempi si dilatano quindi bisogna che una cosa che va in consiglio parta dieci giorni prima e non siamo stati in grado di farlo mentre noi dobbiamo mettere in condizione il Pordenone già di operare da domani da domani mattina perché già probabilmente stanno raccogliendo le offerte stanno cominciando a mettere in piedi quelli che sarà il cantiere di lavoro perché se devono partire con il fine agosto il campionato è giusto che lo mettiamo nella condizione l'urgenza era determinata da questo pluriannale non è pluriannale l'impegno l'impegno è dell'anno di competenza il pagamento viene dilazionato è come se io impegnassi una somma per fare il campo di calcio e pago la impresa stati d'avanzamento in 4-5 rate insomma quello che è quindi non è un impegno pluriannale è un impegno proprio annuale le preoccupazioni anche della maggioranza guardate che io non sono la sessore del sport però sono gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni a parte che Pordenone è una palestra è una città che ha tre impianti dedicate esclusivamente allo judo quindi il tatami resta sempre per terra non c'è una città in giro che ne abbia tre abbiamo fatto interventi sul Palamarmi quindi anche lì dove c'è una società che sta giocando e si sta giocando bene i propri campionati nel settore anche se è uno sport più povero però gli abbiamo dato anche lì gli impianti che avessero la qualità per ospitare i campionati di livello la nuova palestra a Torre per esempio serve al basket ma non solo al basket serve anche alle signore anziane che vogliono fare la ginnastica alla sera quindi c'è l'impegno di una città non è una città verso l'agonismo noi non siamo la città che sponsorizza la viola Reggio Calabria come città di Reggio Calabria o il Cagliari calcio come Sardegna siamo una città che si impegna sulle impianti sportive perché vorremmo che lo sport fosse lo sport di tutti fosse lo stile di vita forse la salute per lo sport forse l'educazione la formazione la cultura sportiva per i giovani cittadella dello sport è un investimento importante che abbiamo fatto per 200 bambini cioè non è per il porde non è calcio ci sono 200 bambini che si allenano in quello spazio e l'abbiamo fatto con le economie a Borgomeduna adesso che purtroppo non c'è più l'Aurora che farà campionati c'è uno spazio in più per il rugby insomma c'è una possibilità che anche il rugby merita sempre uno sport che ha capacità anche di investimento come federazione dobbiamo dargli la possibilità di investire stessa cosa per gli impianti sportivi del calcio l'abbiamo fatti parecchi ci manca torre ecco torre dobbiamo risolvere con la regione la questione degli investimenti sul sintetico se riuscissimo a convincere la regione a passare gli investimenti come facciamo noi al pordenone calcio o a passare direttamente al torre ecco che avremo una burocrazia in meno e la possibilità di investire più in fretta se non riusciremo lo faremo noi lo faremo con le modalità che sono note della pubblica amministrazione mi piace sottolineare questa questione della capacità che abbiamo degli investimenti guardate che sono due cose diverse investire in titolo secondo quindi investire in patrimonio e spesare invece la bolletta della luce sono due cose che nella contabilità pubblica sono nettamente separate sono due cose che hanno anche regole diverse quindi noi abbiamo capacità di investimento e l'avanzo non lo utilizziamo in titolo primo nelle spese normali lo usiamo proprio in investimenti in arricchire il patrimonio comunale cosa che invece la regione ci dà la possibilità di usare il proprio avanzo per spese correnti e quindi la possibilità anche di dare quell'ossigeno alle società più piccole che abbiamo tolto in sede di approvazione del bilancio cioè il fatto di avere un avanzo cospicuo ci permette anche di rivitalizzare quell'attività di volontariato e di sport dilettantistico che ha bisogno di essere tenuta in piedi che è una struttura vitale per la città importante proprio per la sua cultura sportiva a parte che il vicepresidente qualcosa ha assicurato al Pordenone Calcio non direttamente come investimenti al Pordenone noi gli chiederemo per l'illuminazione ma qualcosa ha detto se diamo all'Udinese qualcosa dobbiamo dare anche al Pordenone Calcio come gestione proprio amministrativa come contributo stretto vediamo se si concretizzerà in queste variazioni di bilancio non lo so lì è un'altra la sede dove andremo a vedere cioè sugli altri impianti sportivi noi siamo anche in fase di piano regolatore noi possiamo anche prevedere però credo che la città faccia bene ad andare con i piedi di piombo se non ripeteremo gli errori del passato magari non le ripete neanche il Pordenone Calcio vi ricordate tre presidenti Buongiorno Caon cioè persone che hanno dato moltissimo alla città e dopo non mi ricordo chi? Montari no ma comunque altri insomma che hanno dato moltissimo di loro alla società sportiva però poi non hanno fatto un setten bravo setten ecco quindi capite che però la cittadella dello sport quei 200 bambini che si allenano la possibilità di fare rete con le squadre satellite la possibilità di usare tra virgolette la cantera ecco che potrebbe esserci una prospettiva un po' diverso per questa squadra di calcio e credo che nei dirigenti del Pordenone Calcio ci sia questa ambizione di puntare in maniera diversa a stare nella professionismo nella lega professionisti in maniera diversa rispetto alle abitudini che avevamo che hanno portato forse a risultati anche sbagliati credo che partendo da questo presupposto l'investimento andava fatto e adesso mi fermo perché così parleremo anche per i volontari della protezione civile che sono da un po' che aspettano bene grazie assessore bene passiamo alla dichiarazione di voto nessuna dichiarazione di voto dichiaro chiuso dichiarazione di voto e comunica della via le procedure di votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 25 2014 ratifica delibera dell'aggiunta comunale numero 118 del 24 giugno 2014 avente ad oggetto variazione di bilancio per spese di investimento dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 37 votanti 34 maggioranza 18 favorevoli 34 contrari nessuno astenuti nessuno la delibera viene approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 37 votanti 35 maggioranza 18 favorevoli 34 contrari nessuno astenuti 1 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo alla proposta numero 26 2014 variazione di bilancio ci sono dei professionisti e ci sono dei volontari della protezione civile che aspettavano due delibere che ci sono successivamente se c'è la volontà dell'intero consiglio di anticipare lo so che chiedo una cosa anomala ma dovrebbe chiederlo a me assessore chieda a me che io poi chiedo al consiglio ecco allora chiedo bene allora per la presenza del pubblico che ormai da qualche ora che è qui che assiste ovviamente sono anche me sono stati argomenti interessanti chiedo se è tutto il consiglio è d'accordo nell'anticipare la delibera riguardante la protezione civile nessuna posizione bene allora allora poniamo il consiglio comunale d'accordo passiamo alla proposta di deliberazione numero 28 2014 legge regionale 64 1986 e delibera dell'aggiunta regionale numero 99 2008 approvazione del piano comunale dell'emergenza di protezione civile del comune di Pordenone l'assessore l'assessore chi è l'assessore che espone io l'assessore Moro io la farei brevissima perché c'è l'esigenza di fare una veloce un veloce discorso sui contenuti del regolamento comunale di protezione civile per cui spiego velocemente di cosa parliamo volevo solo fare una premessa come avete visto c'è la presenza anche di alcuni dei nostri volontari di protezione civile del comune di Pordenone non è perché c'è un'allerta meteo ma semplicemente perché ritenevo opportuno e giusto approfittare di queste rare occasioni in cui parliamo di protezione civile interno del consiglio comunale per ringraziare per un attimino dire due parole rispetto all'attività che svolge la protezione civile comunale per cui ringraziare i volontari perché stiamo parlando comunque di volontari e non di persone sono dei professionisti ma lo svolgono a livello di volontariato sono preparati rispetto alle emergenze e voi sapete benissimo quali sono le nostre emergenze più frequenti l'ultima è stata proprio alla fine di gennaio e prima di febbraio con le esondazioni ma le attività che svolge la protezione civile sono anche di tipo informativo e anche di preparazione per loro con continui stage e corsi di formazione e anche nei confronti dei nostri giovani delle scuole in particolare con alcuni interventi fatti sia nelle scuole dell'obbligo che presso gli istituti superiori per cui è un'attività che si svolge anche se non viene sempre vista dai cittadini ma è un'attività che si svolge settimanalmente ogni mese viene fatto un briefing una riunione presso la sede della protezione civile e vi garantisco che di attività nel corso del mese se ne svolgono tantissime che ovviamente mi astengo dall'elencare anche perché sarei sicuramente probabilmente dimenticherei qualcosa un'altra cosa che volevo dire per cui ovviamente li ringraziamo almeno io lo faccio a nome anche dell'aggiunta ma credo anche a nome del consiglio per l'attività che svolgono nel corso dell'anno ci auguriamo sempre che non ce ne sia bisogno però purtroppo spesso accade un'altra attività che è recentissima e che ha visto coinvolta la protezione civile sia quella comunale per cui quella del comune di Pordenone e tutta la protezione civile regionale con parecchi comuni che hanno dato una mano un apporto in termini di uomini è stato l'evento ultimo importante che abbiamo avuto a Pordenone per cui mi riferisco ovviamente alla donata degli alpini io credo che al di là di tutto il volontariato che c'è stato e di tutte le forze che hanno lavorato se non ci fosse stato l'apporto della protezione civile comunale e regionale sarebbe stato difficile realizzare con quei risultati e con un impatto in termini di impatto per la viabilità proprio dovuto alla collaborazione fitta che c'è stata tra la protezione civile e il nostro comando di posizione municipale e tutte le forze dell'ordine non ci sarebbe potuto realizzare quello che abbiamo fatto con un impatto rispetto nei confronti della cittadinanza limitato per cui ho approfittato di questa occasione proprio per ringraziare tutti i volontari dal primo all'ultimo per tutto quello che fanno per la nostra città adesso io lascerei la parola al dottor Bincoletto che è il geologo che ha seguito la redazione del piano invitandolo a ridurre al minimo perché l'impegno l'intervento durerebbe credo più di tre quarti d'ora ma siccome sono stati fatti sia i passaggi presso le circoscrizioni che in commissione direi di ridurre al minimo eventualmente se ci sono dei dubbi lasciamo ai quesiti dei consiglieri grazie Buonasera cercherò di essere rapido partiamo con alcune definizioni di base di cos'è innanzitutto un piano di emergenza di protezione civile di livello comunale è uno strumento a servizio dell'autorità comunale di protezione civile per la gestione delle emergenze sia che queste si stiano manifestando oppure in una previsione in futuro immediato l'autorità comunale di protezione civile è il sindaco e il sindaco si avvale ovviamente del sistema comunale di emergenza che è costituito fondamentalmente dall'interesse dell'amministrazione comunale e dal volontariato di protezione civile di cui qui abbiamo il gruppo comunale dei rappresentanti del gruppo comunale eventualmente se le strutture diciamo di livello comunale non sono in grado di sopperire all'emergenza per la sua vastità e intensità si ricorre ovviamente in ordine alla protezione civile regionale alle forze dell'ordine di vario genere il corpo nazionale vigile del fuoco alle forze armate e in ultimo se proprio l'estensione l'intensità è estremamente gravoso anche il dipartimento nazionale di protezione civile com'è strutturato il piano il piano è strutturato in una parte generale in cui sono raccolte le informazioni di base del territorio veramente orientate ai rischi all'individuazione dei principali rischi presenti nell'area comunale a una parte in cui vi sono i lineamenti della primitivazione cioè gli obiettivi i macro obiettivi da conseguire per rispondere in maniera adeguata ad una emergenza e poi infine il modello di intervento in cui vengono segnate le responsabilità e i piani operativi ovvero le procedure operative per dare un'adeguata risposta all'evento emergenziale infine cosa fondamentale diciamo il piano comunale è completamente integrato nel piano regionale delle emergenze di protezione civile poi ha una serie di allegati comunque una serie di cartografie qui vado rapidamente piani operativi si diceva cioè le procedure specifiche da adottare nel caso degli eventi emergenziali specifici individuati dal piano una serie di elenchi e dei documenti utili all'attività di aggiornamento del piano e di supporto alla gestione delle emergenze e poi cosa fondamentale una serie di monografie ovvero una serie di documenti che definiscono fondamentalmente quelle che sono le aree di emergenza che vedremo dopo brevemente le tipologie di aree di emergenza contemplate dal piano il quadro di riferimento normativo ovviamente seguiamo sia la normativa nazionale che la normativa regionale per l'implementazione vera e propria sono state utilizzate le linee guida sia nazionali che regionali fondamentalmente le linee guida del metodo Augustus del 97 sviluppate dal dipartimento di protezione civile integrate con le linee guida regionali più recenti proprio per avere poi anche quella integrazione totale nel piano delle emergenze regionali cosa fondamentale il piano ovviamente è uno strumento dinamico ha una vitalità quindi e deve essere aggiornato periodicamente ovviamente in funzione dell'evoluzione dell'assetto del territorio progressi tecnico-scientifici sulla conoscenza dei rischi ovviamente l'evoluzione normativa fondamentali sono anche l'attuazione di esercitazioni che permettono anche di testare il piano prima dell'evento emergenziale qui vado rapidamente e poi cosa fondamentale è la informazione alla popolazione il piano deve essere divulgato perché ovviamente è orientato alla popolazione l'importante è che la popolazione deve essere informata informata dei rischi esistenti nel territorio comunale che prenda atto che comunque vive in un territorio che presenta dei rischi che non sono totalmente eliminabili in modo che a seguito dell'evento emergenziale ci sia una cosiddetta autodifesa cioè l'adozione di comportamenti corretti in situazioni estreme adesso vediamo rapidamente la classificazione della severità degli eventi secondo la normativa e lo caliamo all'interno del territorio comunale diciamo la 225 del 92 successive modifiche individuano fondamentalmente tre livelli di severità generali per gli eventi emergenziali l'evento A fondamentalmente è di estensione intensità tale che l'amministrazione comunale è in grado di sopperire autonomamente con gli eventi tipo B invece bisogna ricorrere a un aiuto esterno di livello superiore che nel nostro caso a livello regionale è la protezione civile regionale infine l'evento C questo invece richiede evento più gravoso ovviamente il massimo della severità richiede l'intervento del dipartimento di protezione civile con eventuale nomina di commissari straordinari diciamo che qui nel territorio comunale di Pordenone abbiamo eventi A che si ripetono diciamo frequentemente anche più volte all'anno rischio neve ghiaccio quindi sono risolvibili dall'amministrazione cioè all'interno con le forze diciamo di protezione civile del interne al comune mentre eventi tipo A B ci sono sia il rischio meteorologico severo quindi le cosiddette ad esempio bombe d'acqua termine che viene frequentemente utilizzato e il rischio inquinamento delle acque superficiali perché comunque richiede il solito di intervento ad esempio di strutture sovracomunali quali l'ARPA infine gli eventi diciamo più gravosi di tipo BC quindi intervento protezione civile regionale e ma speriamo non a questo livello comunque il dipartimento di protezione civile sono il rischio idraulico e il rischio sismico vabbè io vado rapidamente se il rischio neve ghiaccio rischio metallogico severo inquinamento superficiali e mi soffermo brevemente sul rischio idraulico che è inteso in questa sede diciamo come quei fenomeni di esondazione fenomeni idraulici connessi ai due corsi d'acqua principali cioè fiume Meduna e fiume Noncello causato da precipitazioni diciamo di lunga durata intense nel bacino montano frontalmente dal quale l'acqua precipitata diciamo nel bacino montano poi con un certo periodo per cui di alcune ore diciamo raggiunge il picco qui a Pordenone è un fenomeno diciamo prevedibile in tempi ovviamente di alcune ore ed è quello che fondamentalmente il cittadino il normale cittadino pordenonese è in sostanza abituato a questo tipo di fenomeno che più o meno con intensità più o meno crescente comunque ogni anno più o meno si ripete comunque qui ci sono sono state contemplate le aree a maggior chiaricità quindi c'è il centro sin destra sinistra ideografica del fiume Noncello valle Noncello in sinistra ideografica del fiume Noncello ovvero dove c'è il sistema comunale di arginature con il sistema ad idrovoro che adesso verrà diciamo potenziato poi abbiamo Valle Noncello a via Comunie invece questo interessato dal fiume Meduna in destra ideografica del fiume Meduna e poi abbiamo la frazione Villanova anche questo in destra ideografica del fiume Meduna diciamo che indicativamente si dice che è un evento di tipo prevedibile ovviamente prevedibile in tempi stimati di alcune ore quindi diciamo tutto si basa tutto il sistema si basa sugli scarichi delle dighe montane e diciamo dallo scarico principale diciamo abbiamo questi sono tempi ovviamente indicativi perché poi ogni evento è a sé stante però indicativamente abbiamo 6 ore a Ponte Meduna 10 ore alla confluenza Meduna-Noncello e 20 ore a Pordenone centro con il famoso rigurgito del fiume Noncello qui abbiamo una serie di eventi storici principali questa la chiamo la memoria storica degli eventi alluvionali della tutti conoscono del territorio comunale ecco per dire un evento di tipo 2002 quello è considerato un evento di tipo B c'è stato un intervento della protezione civile regionale perché l'evento era talmente intenso che l'amministrazione comunale non era in grado di soperire da sola mentre gli ultimi eventi dell'anno scorso quelli sono eventi di tipo A l'amministrazione o meglio il sistema di protezione civile comunale è stato in grado di soperire autonomamente c'è tutta una serie di piani operativi che dicono chi fa che cosa e anche in termini di tempistiche basato su livelli idrometrici e quote altimetriche misurate anche ad hoc per sviluppare il piano di protezione civile comunque abbiamo il rischio ideale abbiamo un piano generale c'è un piano operativo del sistema di azionatura comunale di Valle Noncello poi ci sono alcuni piani operativi di livello superiore nel senso che sono integrati da gestiti diciamo dalla a livello regionale dalla protezione civile regionale uno è la barriera mobile antisondazione però ovviamente con diciamo l'aiuto le forze del sistema locale in particolare dai volontari di protezione civile i quali hanno il compito operativo sia per l'1b cioè in alzamento della barriera mobile antisondazione sia di effettuare quello che è il servizio piena cioè il monitoraggio degli argini in sinistra noncello presso il centro per quanto riguarda invece altro rischio meno sentito ma comunque in cui il territorio comunale di Pordenone rientra è il rischio sismico qui lasciamo stare le cause fisiche del del fatto che comunque siamo in un territorio sismico e vediamo un po' quali sono le possibili il possibile scenario diciamo basato su una una scala di intensità mcs la mercalli cancani sivert la quale va da un grado 1 a un grado 12 individuando diciamo la gravità dei danni che si vedono a seguito di un di un sismo di un evento sismico ecco Pordenone si colloca con un grado massimo diciamo dagli studi più recenti un grado 8 questo vuol dire che è rovinoso cioè non è la totale distruzione quella che abbiamo in mente ad esempio di Gemona 1976 però qualche rovina parziale di qualche edificio effettivamente qualcuno si ricorderà nel 76 ci furono effettivamente dei danni non crolli ma dei danni a qualche edificio vediamo dopo anche qui vediamo diciamo questo era collegato diciamo con le cause della sismicità di Pordenone lascio velocemente qui questi sono tutti i principali terremoti che il territorio comunale di Pordenone ha risentito dall'anno 1000 e vediamo insomma siamo sul 6-7 settimo grado della scala Mercalli della scala MCS dalle previsioni possiamo avere qualcosa in più rispetto ad esempio nel 76 vedete l'ultimo abbiamo risentito un settimo grado potenzialmente possiamo risentire qualcosa di più ecco qui giusto per riprendere anche perché questo può essere preso come scenario di riferimento nel 76 queste sono state le strutture di grandi dimensioni lesionate o rese inagibili quindi una serie di strutture di una certa importanza è vero da dire che anche dal 76 in poi ci sono succedute una serie di normative sismiche l'ultima del 2008 l'NDC 2008 per cui effettivamente gli edifici di più recente costruzione non dovrebbero avere nessun tipologia di problema se sono stati progettati e l'esecuzione dei lavori è stata effettuata a regola d'arte comunque questo è lo scenario possibile anche perché comunque il patrimonio dell'edilizio di Pordenone non è tutto a norma a norma sismica comunque ci furono 2000 persone che vennero ospitate in tendopoli cioè non furono in grado di rientrare nei propri edifici perché erano inagibili esiste il piano operativo per il rischio sismico è stato sviluppato a livello regionale della protezione civile del filo di Venezia Giulia per fronteggiare gli eventi sismici è basato sulla distanza su un sistema diciamo di monitoraggio che in tempo reale praticamente avviene il sisma in una certa zona in una certa area c'è la rete di monitoraggio o meglio se ne sono più più di una integrate le quali riescono nel giro di qualche minuto 5 minuti massimo individuare in maniera automatica dove è avvenuto il sisma e anche con che intensità sulla base della distanza poi e dell'intensità dall'epicentro diciamo viene diramato dalla distanza di tutti i comuni della regione viene diramato diciamo un bollettino di avvertimento direttamente ai comuni i quali in funzione di dove cadono adesso non stiamo a indagare non vi faccio vedere perché è una procedura abbastanza complessa comunque vengono definite cosa il sistema di protezione civile deve fare il sistema di protezione civile ovviamente a cui il capo fa il sindaco deve effettuare cosa deve fare la squadra comunale cosa devono fare i responsabili di sicurezza degli edifici cosiddetti rilevanti cioè scuole fondamentalmente e altri edifici che possono contenere un ammassamento di persone piuttosto elevato quali supermercati eccetera teatri e così via e cosa dovrebbero fare anche i cittadini passiamo un attimo a cosa poi individua il piano il piano individua una serie di cosiddette aree di emergenza che vanno a partire dalle aree di attesa cosiddette ordinarie cioè sono i luoghi destinati alla prima accoglienza della popolazione cioè in caso soprattutto di evento questi sono orientati all'evento sismico in caso di evento sismico diciamo la popolazione ovviamente deve seguire una serie di norme in funzione di buon comportamento che dovrebbero essere diciamo patrimonio di ognuno di noi comunque in funzione di dove si trova la persona che sia in un luogo interno oppure in un luogo esterno dovrebbe adottare alcune norme di comportamento comunque una volta avvenuto il sisma ricordiamoci che i sismi più grossi possono durare la scorsa 30 40 50 secondi in quell'istante cioè in quell'arco di tempo ovviamente è fondamentale rimanere dove ci si trova senza muoversi dopodiché in funzione della situazione ci si dovrebbe reccare diciamo verso queste aree di attese ordinari sono luoghi ovviamente esterni che hanno delle caratteristiche di essere fruibili 24 ore su 24 di solito sono parcheggi piazze aree verdi diciamo non non cioè fruibili 24 ore al giorno e così via la popolazione si deve reccare in quelle aree ce ne sono circa 50 in tutto il comune individuate e lì dovrebbe ci dovrebbero essere diciamo del personale che può essere o dell'amministrazione comunale o dei volontari che dovrebbero fornire primi generi di conforto e anche diciamo una serie di informazioni sulla situazione generale le aree di attesa esclusive sono luoghi particolari invece per particolari specifici gruppi di individui che esulano diciamo dalla popolazione chiamiamo normale ora dalle aree di attesa ordinarie si passa poi dopo alcune ore il tempo di permanenza diciamo non deve superare alcune ore ovviamente e si passa o si rientra perché nel frattempo diciamo è stato verificato che gli edifici sono agibili oppure per le persone che non sono in grado di rientrare perché hanno l'edificio lesionato non è stato ancora controllato si deve passare alle aree di ricovero cosiddette B2 le aree di ricovero coperte dove la popolazione sono strutture diciamo coperte pubbliche ma anche alcuni casi privati comunque sono strutture tipo palestre quindi aree sportive coperte le scuole eccetera in cui le persone vengono ricoverate fino fino ad un massimo quasi qualche settimana massimo quattro settimane dopodiché o le persone sono in grado di rientrare nelle proprie abitazioni oppure nel frattempo sono state istituite installate diciamo le attivate le B1 aree di ricovero scoperte dove vengono realizzate cosiddette tendopoli tempo di permanenza della popolazione massimo sei mesi in questo caso le aree di ricovero scoperte sono individuate ovviamente non devono presentare dei rischi idraulico quindi sono state tutte escluse le aree a rischio idraulico e comunque tendenzialmente sono i grandi parchi cittadini le aree sportive scoperte alcune aree private tipo l'opera Saccharfamilia con una convenzione adatto ha reso disponibile tra l'altro anche non solo l'area esterna ma anche l'area coperta come area di ricovero coperta e poi abbiamo una serie di aree che sono necessarie al funzionamento della macchina di protezione civile cioè dei soccorsi e sono le aree C le aree di ammassamento dei soccorritori individuato allo stato attuale nel magazzino comunale anche perché è prossimo alla sede della protezione civile comunale un paio di elisuperfici uno all'aeroporto della comina che è già esistente l'altro sempre in prossimità dell'area di ammassamento dei soccorritori ecco queste sono fondamentalmente le aree di emergenza poi abbiamo una serie di edifici strategici cosiddetti edifici rilevanti edifici strategici sono quegli edifici che sono in cui hanno sede particolari funzioni che di particolare importanza i fini di protezione civile cioè devono entrare in funzione anche in condizioni ordinarie ma specificamente hanno una certa importanza i fini di protezione civile quindi la gestione dell'emergenza edifici strategici sono di livello statale andiamo ovviamente dalla prefettura poi tutte le caserme di vario genere di tutte le forze dell'ordine e anche forze armate abbiamo poi il livello regionale con sede della protezione civile regionale che è una sede distaccata in comune di Pordenone e poi in particolare il corpo forestale regionale e poi abbiamo edifici strategici di livello comunale che vanno dal municipio alla sede della polizia municipale e fondamentalmente anche la sede della protezione civile comunale poi abbiamo una serie di edifici rilevanti cosiddetti queste sono strutture come si diceva prima avevo accennato prima caratterizzate dalla potenziale concentrazione elevata di esseri umani oppure da elevati valori culturali che sono quindi le scuole di vario genere e grado e i beni culturali diciamo questa parte è stata curata dalla protezione civile regionale che ha fornito poi la banca dati e poi abbiamo visto che viviamo in un territorio con particolare rischio idraulico una serie di cosiddetti presidi territoriali idraulici cioè sono dei nodi nevralgici diciamo nella gestione del rischio idraulico e dove diciamo si presentano alcuni fenomeni e sono fondatamente di tre tipologie di presidi territoriali idraulici nel territorio comunale di Pordenone sono i sottopassi poi ci sono altre aree diciamo di viabilità che tendono ad avere un deflusso superficiale piuttosto difficoltoso nel caso di eventi meteorologici estremi e poi abbiamo anche le zone in cui diciamo le eroge passano da superficiali a interrate anche lì si possono produrre delle situazioni di cattivo deflusso allora fondamentalmente a livello operativo abbiamo questa struttura diciamo comunale di protezione civile costituita fondamentalmente dall'intera amministrazione comunale e dai volontari di protezione civile nel caso in cui avvenga un certo un certo evento la prima cosa che succede il sindaco si avvale diciamo del responsabile comunale di emergenza che è un tecnico dell'amministrazione comunale al cui è stata conferita questa mansione si confrontano e definiscono se è il caso di attivare o meno il cosiddetto COC cioè il centro operativo comunale dove sarà la sede evidentemente delle operazioni per la gestione dell'emergenza ovviamente il COC viene attivato solo in condizioni piuttosto gravose cioè quindi di un evento piuttosto intenso la sede del COC è stata definita a stato attuale siccome deve avere delle caratteristiche ovviamente non deve essere vulnerabile ai principali rischi cioè quindi sismico è idraulico quindi non vulnerabile in un'area di facile accesso e poi deve avere una serie di possibilità di comunicazione con l'esterno quindi è stata allo stato attuale definita la sede dei volontari di protezione civile del comune di Pordenone in realtà il COC è una struttura che nel caso di emergenza nel quale un'emergenza piuttosto gravosa viene attivato però ha delle funzionalità quindi un'attivazione quindi nella sua struttura diciamo operativa però in realtà è una struttura che viene definita antecedentemente all'evento e anche in condizioni ordinarie ha dei compiti in particolare il COC è suddiviso in nove a livello comunale qui si seguono le linee guida del metodo Augustus del Dipartimento di Protezione Civile ha nove funzioni le quali ripeto in condizioni di emergenza vengono attivate nella loro oppure possono essere attivate non tutte adesso vediamo che in condizioni di emergenza possono anche non essere attivate tutte però in condizioni ordinarie hanno anche devono svolgere delle attività ad esempio la funzione 1 che è quella fondamentale a tecnico-scientifica e pianificazione ad esempio in condizioni ordinarie è quella che gestisce il piano di emergenza quindi si occupa della sua implementazione del suo aggiornamento frequente e così via poi vedete abbiamo anche la funzione 3 il volontariato io salto un po' su quelle fondamentali il volontariato quindi tutta la gestione del volontariato anche in condizioni ordinarie il volontariato ha delle funzioni che in caso di attivazione del COC in condizioni di emergenza svilupperà poi la fase operativa vera e propria e così via come si vede qui in rosso sono state identificate le 5 funzioni di configurazione minima del COC nel senso che se il COC viene attivato deve essere attivato almeno con queste 5 funzioni che sono quelle fondamentali diciamo e poi eventualmente se necessita di altre funzioni queste possono essere venire attivate in fase successiva ovviamente sempre su consultazioni del sindaco con il responsabile comunale dell'emergenza e ovviamente tutto il personale di volontariato e anche dell'amministrazione comunale che viene impiegato nella gestione dell'emergenza ecco qui io avrei finito 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 grazie assessore Moro lei deve fare altre prese no grazie bene allora chiedo se ci sono chiarimenti prego consigliere Martino grazie presidente ecco io mi scuso ma ero assente in commissione che ero via quindi approfitto adesso per fare due richieste di chiarimento ma nello stesso momento farò un breve intervento e anche la dichiarazione di voto così risparmiamo tempo non si può chiarimenti sì poi passiamo alla discussione ok va bene allora mi limito solo ai chiarimenti ok allora per quanto riguarda il primo chiarimento nelle premesse pagina 5 del piano 1 2 il terzo periodo terzo paragrafo dopo allora dopo le parole quindi stiamo parlando nel caso in cui il comune non non è in grado per motivi vari di di sopperire all'emergenza autonomamente e quindi devono intervenire altri enti superiori in questo caso allora vado alle parole esattamente allora da risorse esterne definite dalle strutture operative di protezione civile in sintesi costituite da protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia dipartimento nazionale di protezione civile e poi prosegue io qui apporterei e suggerirei una correzione perché l'attivazione delle forze dell'ordine dei vigi del fuoco delle forze madre e in capo alla prefettura quindi aggiungerei la prefettura che a sua volta coordina a livello provinciale naturalmente l'azione delle forze dell'ordine del corpo nazionale dei vigi del fuoco e delle forze armate ci si è dimenticati appunto e questo è il primo per quanto riguarda il secondo chiarimento vado a pagina 26 dove si parla di rischio industriale da incidente rilevante e per dire che a parte che probabilmente secondo me si è persa qualche parola perché c'è una frase alla fine di cui non trovo il senso ma a parte questo io direi che il decreto il decreto citato il 334 del 99 è un decreto che è stato modificato poi adesso nel marzo del 2014 da un altro decreto il 48 dove si parla dei depositi di oli minerali ecco la redazione del piano di emergenza esterno è previsto una volta che si è accertato che il deposito di oli minerali sia uguale o in quantità uguale o superiore rispetto a una certa quantità che è prevista appunto da questo decreto il 48 che ha modificato il 334 e sono cambiati i limiti quindi io suggerirei proprio per evitare che se nel tempo i vari depositi poi noi a Pordenone mi pare ne abbiamo uno nel territorio comunale quello citato nel testo e che il gestore è tenuto a notificare al sindaco oltre che agli altri enti quindi sappiamo esattamente di cosa parliamo e di quali quantità allora io suggerirei così di prevedere la redazione del piano di emergenza esterno solo se le quantità presenti nel deposito sono uguali o superiori a quelle previste dal decreto legislativo 48 del 2014 l'allegato 1 per esattezza questo per agevolare un po' anche nel nel tempo la necessità o meno di dover aggiornare il piano è vero lei ha detto che è un piano flessibile però io credo che in questa maniera riusciamo a disciplinare diciamo la 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 normativa seveso in maniera da non dover intervenire ogni qual volta ci siano delle modifiche di questo o di altri depositi che nel frattempo nel territorio comunale potessero esserci io ho finito con i chiarimenti per il breve intervento allora farò sì quando dichiaro l'apertura ci sono altri chiarimenti no pertanto ma è chi dà risposta a questi chiarimenti assessori lei o il tecnico prego sì sì senz'altro allora la questione dei depositi ovviamente non è competenza o comunque in generale la legge seveso e successive modifiche intercorse non è compito del comune preoccuparsi nel senso si deve preoccupare se c'è dei casi però è a capo alla prefettura c'è un pull anche il piano esterno c'è un pull costituito da comandato da prefettura vigili del fuoco ARPA FWG che nel caso specifico degli oli di cui stiamo parlando oli combustibili è in fase di redazione del piano di emergenza una volta esterno mentre il piano interno è a capo all'azienda una volta terminato l'iter ovviamente questo sarà integrato nel piano allo stato attuale non è ancora redato comunque è questo team che deve dare delle indicazioni se il piano è necessario o meno non è il comune non è il comune perché non è competenza del comune un'altra richiesta di chiarimento consigliere sì prego date la parola per consigliere devi schiacciare devi schiacciare consigliere ecco sì avevo fatto presente appunto che nell'ultima frase penso che manchino ho delle parole delle frasi perché non trovo il senso dove c'è scritto per tale stabilimento la quale la prefettura di Pordenone è in fase di redazione del piano di emergenza esterno che una volta ultimato e divulgato verrà recepito il presente piano penso che manchi qualcosa qua il senso si lo so come è scritto la forma che è un altro il senso si lo so non so non so se manca vuole rispondere no grazie ne te racconto l'amministrazione va bene nessun'altra richiesta di chiarimento portanto dichiaro aperta la discussione prego consigliere Martino prego quindi continuo ecco molto brevemente visto che l'ora è tarde io a me dispiace così che questo argomento sia trattato così in maniera come dire in maniera non esaustiva perché si potrebbe parlare di protezione civile e il tecnico naturalmente è molto velocemente ci ha illustrato il piano che è un piano tecnico operativo ma si potrebbe parlare dell'argomento dal punto di vista politico però sappiamo benissimo che il ruolo della protezione civile specialmente a livello regionale è riconosciuta a livello nazionale e non solo io mi associo ai ringraziamenti dell'assessore ringraziamenti ai volontari perché sappiamo che dedicano molte ore del loro tempo libero per gli aggiornamenti per i corsi di formazione e quindi per l'attività che svolgono in maniera così da volontari ma in maniera professionale ecco così dico brevemente perché appunto il tempo è quello che è io credo che il piano così come è stato è stato redatto è un piano va bene dicevo prima è un piano tecnico operativo secondo me sarebbe importante testarlo attraverso dell'esercitazione che se non è possibile fare a livello sovracomunale perché sappiamo i tempi anche degli enti interessati ma il comune potrebbe programmare una volta adottato il piano e ne messi a venire delle esercitazioni appunto solo di livello comunale informando la popolazione perché i soggetti i primi soggetti interessati alla alla sicurezza di questo piano sono proprio i cittadini quindi la redazione va bene però una informazione magari non so anche sicuramente verrà messo anche sul sito il piano in maniera che i cittadini vogliono andare a leggerselo potranno lo potranno fare naturalmente e anche e anche sì quindi ecco il mio invito è quello a testare il piano e a fare dell'esercitazione grazie ecco silenzio per cortesia grazie consigliere nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso il primo il primo intervento passiamo al secondo nessun iscritto dichiaro chiuso la discussione la parola all'amministrazione prego prego assessore sì ma il piano stesso prevede le esercitazioni e ovviamente anche la fase informativa la pubblicazione sul sito e tra l'altro la consegna a domicilio del volantino che segnala al cittadino qual è l'area di prima emergenza dove si deve recare nel caso in cui ci sia un'emergenza come punto di raccolta per cui questi sono già ovviamente degli impegni che il piano stesso ci obbliga ad ottemperare tra l'altro anche la segnaletica cioè noi dovremmo provvedere a far a redigere a valle dell'approvazione del piano un'adeguata segnaletica che indichi quali sono i luoghi i centri di raccolta i punti di raccolta è intenzione di questa amministrazione e ovviamente è una operazione nuova per la nostra città nel corso del 2015 di effettuare un'esercitazione con la cittadinanza ovviamente che non coinvolgerà l'intera città perché sarebbe eccessivo ma circoscrivendola ad un'area per cui questo credo che nel 2015 provvederemo a realizzarlo grazie assessore dichiaro aperte le dichiarazioni di voto nessuna dichiarazione di voto prego consigliere Zanotto c'è una battuta per coloro che si occupano di questa cosa che è il miglior piano di protezione civile o di qualsiasi lavoro è non avere un piano avere un piano vuol dire operare in maniera moderna e organizzare in questo caso un'attività di protezione civile quindi è lo strumento base su cui un'organizzazione moderna è voluta agisce quindi diventa il riferimento quindi farlo non è solo un obbligo di legge ma è l'atto preliminare con cui una struttura comunale di protezione civile si organizza bisogna passare alla parte pratica quindi il fatto di non averlo avuto fino adesso è stato un problema perché fino adesso ci siamo affidati alla Buona Stella un paese moderno un comune moderno un comune metropolitano come il nostro con strutture di un certo tipo non si può affidare a una Buona Stella quindi approviamo questo piano assolutamente contiene molti aspetti tecnici che andranno verificati ovviamente solo le esercitazioni danno la possibilità di verificarlo se ci sono dei problemi sarà la gestitazione o le prove che danno che danno la comprova appunto che questo piano è valido o la validità di questo piano non c'entra niente con altre pianificazioni che esistono per altri motivi che c'entra niente ed è limitato il comune di Pordenone quindi dobbiamo avere questa dimensione per cui siamo d'accordo e voteremo a favore grazie anche da parte nostra evidentemente il voto favorevole a questo con alcune precisazioni la competenza del consigliere Martino ha messo in evidenza alcune cose che richiedono delle precisazioni sul piano che deve essere fatto che non è sulla questione delle finalità o dei contenuti ma come viene formulato questo piano perché è comunque sempre un atto deliberativo che stabilisce delle norme dopodiché pochi consigli comunali fa abbiamo anche detto che Pordenone deve cominciare a vedersi in giro con gli altri comuni per cercare di fare delle cose insieme questo sarebbe una buona occasione il comune il comune al suo però non possiamo fare uno magari degli altri comuni ma che siano integrati perché quelle emergenze che andiamo a affrontare sono più una emergenza di conurbazione che di emergenze solo di Pordenone giusto per ricordare il fiume Noncello nasce a Cordenone passa per Pordenone e confina con Porcia se dovessimo tenere conto delle emergenze idriche sono questi poi mi sarebbe anche piaciuto se ci fosse fatto una riflessione sul fatto che da 100 anni Pordenone va a recuperare acqua dalle sorgenti del Venchiaredo e attraverso il canale Amman lo porta a Pordenone quindi questo è anche un'occasione per pensare quali sono le acque che arrivano a Pordenone rispetto a quello che era un fatto naturale perché il Venchiaredo andava in Meduna e non veniva sul noncello quindi di per sé un piano che può essere approvato ovviamente anche da parte nostra un apprezzamento un apprezzamento per l'impegno dei volontari del protezione civile dei quelli che sono dipendenti che si occupano di protezione civile e magari anche una disponibilità di Charmé mia di altre che professionalmente fanno anche altre professioni di essere al servizio dei volontari di protezione civile perché magari potrebbe essere un'occasione per l'educazione sanitaria per una conoscenza meglio di alcune norme perché sono alla fine quando li vediamo vestiti di celeste un riferimento è qualcosa che dà continuità presenza al nostro territorio quindi voto favorevole sperando che quegli auspici di rapporti con altri comuni miglioramento sul piano della stesura della normativa possono essere a conti grazie consigliere consigliere Dalmas prego l'Italia è favorevole a questa delibera è solo una nota polemica potevamo dedicare più tempo a questa cosa probabilmente anche calendarizzando questa deliberazione per capire alcuni aspetti che sono interessanti ho seguito la sua relazione la relazione del dottore del geologo e effettivamente mi venivano in mente diverse situazioni che è meglio non provare mai quindi ci sarebbero tante domande da fare ma l'occasione che noi per l'oggetto diciamo che stiamo trattando è anche un'occasione propizia perché diversamente non potremmo farlo esprimere un ringraziamento sentito nei confronti di tutti i volontari della protezione civile e della protezione civile della regione primavera che è sicuramente una protezione civile di avanguardia di livello e di esempio per l'intero paese grazie consigliere consigliere Freschi grazie presidente semplicemente per esprimere il nostro voto favorevole a questa delibera e associarmi a quanto detto anche da altri consiglieri nel ringraziare chi ha lavorato su questo documento abbiamo avuto modo di vederlo in commissione lo abbiamo rivisto questa sera mi pare sia esaustivo della situazione legga in maniera molto profonda e accurata quelli che sono gli adempimenti e le tematiche e d'altra parte non si può dire diversamente in quanto la protezione civile è figlia di questa terra è nata in seguito agli eventi calamitosi del 76 c'è una lunga storia c'è una lunga tradizione e penso che vada riconosciuto il grande lavoro svolto in questi anni e augurandoci che non ci sia bisogno da un lato ma che ci sia nel contempo un continuo aggiornamento e una continua presa di coscienza da parte di nostri cittadini della preziosità che la protezione civile comporta per la nostra comunità grazie grazie consigliere consigliere Tavella prego velocissimo per dire per dare il nostro parere favorevole alla delibera e naturalmente abbinisco i colleghi per il lavoro che fanno gli uomini della protezione civile un ringraziamento per loro e continuare sempre così che fanno un grande lavoro grazie grazie bene nessun'altra richiesta intanto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto do la parola all'amministrazione che deve fare una comunicazione prego Assessore Moro allora per quanto riguarda il testo al al 2.6 rischio industriale da incidente rilevante cogliendo la segnalazione corretta dei consiglieri la frase le ultime tre righe per tale stabilimento in prefettura di Pordenone è in fase di redazione il piano di emergenza PPE che una volta ultimato e divulgato verrà recepito dal presente piano ci sono state praticamente è stata corretta la frase perché non era comprensibile così come scritta rispetto alle occasioni facciamo l'altra segnalazione che non mi ricordo era se me la ripeto possiamo integrare anche con quella parte sì perché poi alla fine non è che cambia il senso è semplicemente un'integrazione successiva perché è intervenuta l'ulteriore norma lo facciamo va bene e il consigliere consigliere Martino se la può ripetere ad alta voce la frase che lei diceva ma siccome sono piccole modifiche allora nel mio intervento avevo citato avevo detto che la norma citata il 3.34.99 è stata modificata da 48 il tecnico può confermare quindi quindi va modificato qua nel testo o si scrive 3.34.99 e successive modifiche e integrazioni oppure si cita il 48 cioè mi sembrava molto semplice e chiaro per cui integriamo e successive modifiche per cui ricomprendiamo tutto teniamo conto che come diceva il dottor Bincoletto questo è un piano che è molto dinamico per cui ci saranno sicuramente le esigenze le indicazioni che ci dà la protezione civile regionale è che sia in qualche maniera rivisto almeno una volta all'anno per cui è molto probabile che ci sarà occasione almeno una volta all'anno di riparare del piano in consiglio comunale per cui avremo altre occasioni anche per approfondire ulteriormente ovviamente le piccole modifiche saranno di competenza della giunta così come previsto dal deliberato ma almeno una volta all'anno ne discuteremo per cui ci sarà anche l'occasione proprio di approfondirlo grazie bene grazie allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto così come integrata e emendata come avete appena sentito legge regionale dunque scusate deliberazione proposti di deliberazione numero 28 2014 legge regionale 64 1986 e delibera della giunta regionale numero 99 2008 approvazione del piano comunale dell'emergenza di protezione civile del comune di Pordenone dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 35 votanti 35 maggioranza 18 favorevoli 35 contrari nessuno astenuti nessuno la delibera viene approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 35 votanti 35 maggioranza 21 favorevoli 35 contrari nessuno astenuti nessuno l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene grazie grazie anche per la presenza della protezione civile bene ora passiamo alla proposta numero 26 2014 variazione di bilancio per spese correnti diverse la parola all'assessore Mazza prego grazie presidente cercherò di essere sintetico in sostanza la variazione di bilancio si compone di solo 5 punti e li illustro in un baleno innanzitutto perché c'è stata richiesta c'è stata richiesta soprattutto al comune di Cordenons che ha una necessità di urgenza di implementare un proprio fondo per l'area del disagio socio-economico perché lo facciamo? perché Cordenons aveva anticipato i fondi e ovviamente noi siccome li avevamo anticipati sul bilancio del comune di Pordenone e avendo adesso necessità di variare il proprio bilancio che è in capo all'ambito ma fa parte del bilancio del comune di Pordenone credo che sia corretto visto che ci ha già pagato andare a variare il bilancio e a incrementare il fondo che serve a quel territorio raccogliamo questa situazione un po' di emergenza per registrare alcune variazioni di bilancio in entrata soprattutto che sono relativi a alcuni progetti e alcuni contributi che arrivano dallo Stato e dalla Regione in particolare allora il primo variazioni di bilancio di 22.000 euro a favore del comune di Cordenons sul fondo del disagio socio-economico ambito distrettuale 6.5 ufficio politiche europee noi siamo riusciti a ottenere un progetto che si chiama progetto PAS attraverso un contributo anche del neocostituito ufficio per le politiche europee di 200.000 euro in precedenza non finanziato dalla Regione ma adesso ci ha incrementato diciamo i soggetti che avevano diritto ad acquisire questo fondo e entrare in graduatoria quindi 200.000 euro per l'attività si tratta di attività relativa ai minori ricongiunti minori provenienti da altre nazioni per cui risulta fondamentale non solo rispettare la tempistica progettuale ma soprattutto programmare gli interventi in tempo all'inizio dell'anno scolastico e quindi lo facciamo perché così a settembre siamo in grado di avere questo progetto da attuare direttamente quindi a mettere a disposizione anche l'uscita le somme nel settore cultura ci sono 17.000 euro che vengono dati per un progetto Nativi Digitali a Pordenone in collaborazione con tutti gli istituti comprensivi della città i quattro istituti comprensivi della città e anche questo è un contributo della Regione poi sono 6.750 euro contributo che ci dà la curia per le borse borse spesa e in più abbiamo delle variazioni di bilancio che riguardano le circoscrizioni sono semplicemente per porre in essere quelle risorse in capo al segretario che le utilizza al posto dei precedenti circoscrizioni che impropriamente le utilizzavano visto che da tanto tempo è entrata in vigore la Bassanini e quindi solo gli organi tecnici possono fare affidamenti e rendicontare spese mentre lo facevano non correttamente diciamo le circoscrizioni fino adesso non cambia niente nelle modalità di utilizzo e nelle risorse assegnate queste sono le variazioni di bilancio che proponiamo grazie assessore richieste di chiarimenti nessuna dichiaro aperta la discussione nessun iscritto primo secondo intervento bene dichiaro chiusa la discussione passiamo alle alle dichiarazioni di voto nessuna dichiarazione di voto pertanto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto passiamo alla votazione allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 26 2014 variazione di bilancio per spese correnti diverse dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro dichiaro chiusa le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 27 votanti 26 maggioranza 14 favorevoli 25 contrari 1 astenuti nessuno la delibera è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiusa l'operazione di voto l'esito votazione seguente ho già dichiarato chiusa l'esito votazione seguente presenti 27 votanti 26 maggioranza 21 favorevoli 25 contrari 1 astenuti nessuno l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta numero 27 2014 sentenza della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulio numero 73 2012 il giudizio promosso a seguito dell'odo arbitrale Sina Termotecnica riconoscimento debito fuori bilancio Assessore Moro prego si tratta di un debito fuori bilancio per un importo di 2.300 euro riferito all'esito della della sentenza della sezione giurisdizionale giurisdizionale della Corte dei Conti di Friuli Venezia Giulia che diciamo ha assolto l'allora si tratta di un di un di un lodo arbitrale riferito a dei lavori presso la sede della municipale della Sina Termotecnica del 1986 a seguito dell'odo arbitrale il direttore di lavori l'allora direttore di lavori ingegner Cisotto è stato assolto dall'accusa e liquidato liquidando la Corte dei Conti in suo favore la somma premessa sono 2.214,20 euro i fondi trovano capienza ovviamente nel bilancio del Comune e pertanto si richiede la ratifica di questo debito fuori bilancio grazie sessore richieste di chiarimenti no dichiaro aperta la discussione nessuno iscritto primo e secondo intervento passiamo alle dichiarazioni di voto nessuno iscritto bene pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 27 2014 sentenza della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia numero 73 2012 nel giudizio promosso a seguito dell'odo arbitrale Sina Termotecnica riconoscimento debito fuori bilancio dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 26 votanti 25 maggioranza 13 favorevoli 24 contrari 1 astenuti nessuno la delibera è stata approvata pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 26 votanti 25 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 1 astenuti nessuno l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile passiamo ora alla proposta di deliberazione numero 29 realizzazione di un termine a studenti in viale Venezia a Pordenone e della relativa viabilità ciclopedonale sovrappasso sulla strada statale 13 collegamenti pedo ciclabili tra quartieri scolastici e termine a studenti che costituisce adozione della variante numero 116 al piano regolatore generale comunale vigente assessore Toffolo prego presidente nel febbraio del 2014 successive integrazioni la provincia ha presentato all'amministrazione comunale il progetto preliminare per la realizzazione del sovrappasso ciclopedonale della Pontebana e della sistemazione del terminal studenti sulla Pontebana stessa l'area è indicata e cerchiata di rosso nel piano regolatore in pratica il progetto prevede quelle opere che renderanno sicuro l'accesso alla scuola di via Ferraris partendo dal presupposto che il trasporto pubblico extraurbano si ferma a scaricare gli studenti lungo la Pontebana in corrispondenza in corrispondenza della più o meno dell'area antistante il McDonald da quando è stata realizzata la scuola con la provincia e alla provincia è risultato evidente la pericolosità dell'attraversamento che si presentava della Pontebana da parte degli studenti stessi la cosa è stata temporaneamente risolta con l'installazione di un semaforo temporizzato ma nella progettazione ormai da lungo tempo si prevedeva appunto la realizzazione di questo percorso che prevede nel punto con punto rosso l'individuazione della terminal studenti già realizzato e che prevede rispetto al progetto originario quattro stalli anziché i sei otto di progetto iniziale un percorso in sicurezza lungo la Pontebana all'interno della proprietà della scuola superiore quindi di proprietà della provincia stessa e il sovrappasso in perpendicolare rispetto all'andamento della Pontebana come già emerso in commissione durante la discussione in commissione si è optato assieme alla provincia stessa a prediligere la soluzione del sovrappasso rispetto al sottopasso in quanto visto i sottoservizi presenti in questo tratto della Pontebana lo stesso sarebbe stato estremamente oneroso nella realizzazione non dando neanche a tutta una parte di utenza quella sicurezza che invece viene riconosciuta alla caratteristica del sovrappasso che ha anche un costo economico notevolmente inferiore il progetto era già stato validato con la presentazione del progetto preliminare rispetto a quanto già identificato nel vigente piano regolatore che prevede già la locazione di questo viabilità ciclopedonale appunto in fase di redazione la provincia ha dovuto apportare delle modifiche al progetto stesso innalzando di un metro l'impalcato della passerella e quindi andando a ridefinire puntualmente alcune aree assoggettate ad esproprio ed è per questo che noi in questa fase adottiamo la variante urbanistica conseguente all'adozione del progetto preliminare che va a riconoscere proprio queste minime varianti che però hanno visto la necessità della riapposizione del vincolo preordinato l'esproprio in queste foto si vede rispetto alla pontebana dove inizia il progetto il percorso pedonale il sovrappasso ciclopedonale naturalmente sintetizzato da un segno rosso in questa fase e quelle che sono le opere che vi ho già descritto e di conseguenza i punti di variante questo è il piano regolatore vigente i punti sono appunto scusate il gioco di parole quelli che prevedono l'identificazione all'interno della proprietà della provincia della scuola superiore dell'attuale zona già realizzata con le pensiline e che verrà coperta in un secondo momento dalle pensiline della fermata sulla pontebana l'identificazione del percorso all'interno della proprietà pedonale ciclopedonale per andare a raggiungere il sovrappasso e la ridefinizione puntuale di aree preordinate all'esproprio necessarie e indotte dalla rivisitazione del progetto da parte della provincia in fase di stesura quindi lo strumento urbanistico definitivo prende questa definizione abbiamo io faccio presente che in sala è anche presente l'ingegnere sparta della provincia qualora si voglia vedere anche il progetto che era stato approfonditamente analizzato in commissione grazie grazie assessore chiedo signor cusci ci sono richieste di chiarimenti nessuno richieste di chiarimenti chiarimenti dichiaro aperta discussione franchin prego si franchin il nostro gruppo aveva chiesto che ci fosse chiarezza sul fatto che il percorso pedonale era collegato al parco di torre cioè che fosse in qualche modo inserito in un concetto di pedonabilità della città che rendeva utile anche il sottopasso lo dico al microfono solo perché il fiume abbia questa in qualche modo imprimato su questa cosa che è sempre stata per noi una cosa determinante grazie grazie consigliere passoni prego mi spiace che le minoranze non ci siano più ringraziamo comunque l'amico piccinato che ci sostiene sempre a quest'ora per dire che finalmente siamo a questo punto importante per collegare un polo scolastico con questa struttura appunto io mi associo anche a questa cosa che si era stata detta anche in commissione che riguarda appunto il collegamento ciclabile una cosa che era emersa in commissione ed era quella che probabilmente diciamo il percorso pedonale ciclabile che collega diciamo il punto di fermata al sovrappasso non di dimensioni adeguate avevamo chiesto questa opportunità nel frattempo che va in gara il progetto non avevamo avuto una risposta definitiva non so se sarà possibile perché effettivamente no no questa era l'unica cosa che mi sentivo so che poteva essere anche un punto di chiarimento ma lo faccio anche come intervento come richiesta la parte di diciamo collegamento dal punto di fermata al sovrappasso all'inizio del sovrappasso quella parte diciamo lì che è a fianco della statale del terminal del terminal esatto da lì parte la pedonale ciclabile che porta al collegamento che poi fa il sovrappasso per andare via ferraris grazie grazie Grazie. Grazie. Consigliere Freschi, prego. Sì, solo una precisazione al di là di quello che ha appena detto il consigliere Passoni, che era uno degli argomenti che erano stati toccati. L'altro, mi permetto di sottolineare, forse l'avrà detto l'assessore ma forse mi è sfuggito, il discorso della rotonda in prossimità dell'attuale attraversamento semaforico. Ecco, io ho una preoccupazione, non vorrei che fatto tutto l'intervento che ritengo utile e indispensabile, quell'aspetto lì dell'attraversamento semaforico, cioè non capisco quale sia il deterrente per qualcuno non utilizzi più l'attraversamento semaforico rispetto all'utilizzo della passarella. Ecco, volevo capire un attimo questo aspetto qua, come veniva chiarito. Per il resto tutto ok, insomma. Grazie. Nessun altro iscritto? Chiudiamo la discussione poi dalla parola all'amministrazione. Nessun altro iscritto, pertanto dichiaro chiusa la discussione e do la parola all'amministrazione. Prego. Allora, in questa fase naturalmente la rotonda non fa parte del progetto. La rotonda è presente sul piano regolatore con una serie di previsioni che naturalmente sono legate ad una visione più ampia e a altre poste di infinanziamento. Nel momento in cui ci sarà il collegamento, noi reputiamo che sia importante appunto dissuadere l'attraversamento pedonale laddove oggi è previsto, mantenendo solo il semaforo che serve per l'immissione dei mezzi da parte naturalmente dei vigili, perché è stato implementato ma nasce appunto per permettere ai vigili l'immissione rapida, però il percorso diventa quello in frangia alla scuola e del sovrappasso pedonale in oggetto, con quindi l'eliminazione del percorso pedonale lì del semaforo. E questo è l'impegno dell'amministrazione. Grazie. Dichiarazioni di voto? Nessuno iscritto. Dichiaro chiuse dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto, proposta numero 29 2014, realizzazione di un termine a studenti in Viale Venezia a Pordenone e della relativa viabilità ciclopedonale, sovrappasso sulla strada statale 13 e collegamenti pedociclabili tra quartieri scolastici e termine a studenti che costituisce adozione della variante numero 116 al piano regolatore generale comunale vigente. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito votazione è la seguente. Presenti 24, votanti 23, maggioranza 12, favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti 1. La delibera è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è la seguente. Presenti 24, votanti 23, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti 1. L'ha statato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, signori. Dichiaro chiusi i lavori. Sono le 23.11. Il Consiglio verrà convocato a domicilio come previsto al regolamento. Grazie e buonanotte. E buone vacanze se non ci rivediamo prima. Grazie. Grazie.